Gli scritti irriverenti di Mark Twain Letto dagli audiolibri dell'avido alchimista Se vi piace quest'opera e vi piace il modo in cui questo avido lettore la legge, beh, lasciatemi un mi piace e iscrivetevi al canale. Lettere di Satana dalla Terra Il creatore era seduto sul trono, pensando. Dietro di lui si stendeva lo sconfinato continente del cielo, permeato di un glorioso tripudio di luce e colore, e davanti a lui si levò, come un muro, la nera notte dello spazio, La sua mole possente salì allo zenith, robusta come una montagna coronata dalla sua testa divina, splendente come un sole lontano. Ai suoi piedi stavano tre personaggi colossali, diminuiti per contrasto quasi all'estinzione. Erano gli arcangeli, le cui teste arrivavano fino alla caviglia. Quando il creatore finì di pensare, disse «Ho pensato, guarda». Alzò la mano e da essa uscì un getto di fuoco polverizzato, un milione di favolosi soli che si spaccarono e tagliarono l'oscurità, allontanandosi e allontanandosi, diminuendo di dimensioni e splendore, man mano che penetravano i confini lontani dello spazio, fino a diventare minuscoli diamanti che brillavano sotto il cielo. Immensa volta dell'universo. Dopo un'ora, il Gran Consiglio si è sciolto. Colpiti e premurosi, i membri si ritirarono dalla presenza e si ritirarono in un luogo privato in modo da poter parlare liberamente. Nessuno dei tre sembrava disposto a iniziare la conversazione, preferendo che lo facesse qualcun altro. Tutti volevano discutere del grande evento, ma non volevano scendere a compromessi finché non avessero saputo come gli altri lo valutavano. Quindi ci fu uno scambio di parole vaghe ed esitanti su argomenti non importanti e andò avanti noiosamente senza arrivare da nessuna parte, finché, finalmente, l'arcangelo Satana si fece coraggio. Di cui era ampiamente rifornito e ruppe il ghiaccio. «Signori, sappiamo di cosa siamo venuti a parlare», ha detto. «Quindi è meglio che la smettiamo di cercare scuse e iniziamo, se il Consiglio è d'accordo». «Lo è, lo è», dissero Gabriel e Miguel, interrompendoli con gratitudine. «Bene, allora, procediamo. Abbiamo assistito a qualcosa di straordinario, su questo siamo necessariamente d'accordo. Quanto al valore che può avere, se ce l'ha, non è una questione che ci riguarda personalmente. Possiamo avere tutte le opinioni che vogliamo al riguardo, ma senza andare oltre. Non abbiamo voto. Penso che Space andasse bene così com'era, ed è stato anche utile. Era un luogo freddo e buio, perfetto per riposarsi dal cielo, con il suo clima delicato ed estenuanti splendori. Ma questi sono dettagli senza troppa importanza. La novità, la novità colossale. Cos'è, signori? L'invenzione è l'introduzione di una legge automatica, che non richiede né supervisione né regolamentazione per governare quella miriade di soli e mondi che girano e avanzano a tutta velocità. Quello è, disse Satana. Ammetterai che questa è un'idea favolosa. Finora non è emerso niente di simile dall'intelligenza suprema. Un'intera legge. Una legge automatica, esatta e invariabile, che non richiede vigilanza, correzione o aggiustamento per tutta l'eternità del tempo. Ci ha detto che quegli innumerevoli corpi enormi solcheranno le cavità dello spazio a una velocità inimmaginabile per secoli e secoli, tracciando orbite formidabili, ma senza mai scontrarsi con periodi orbitali che tra duemila anni non saranno né più lunghi né più brevi del centesimo di secondo. Questo è il nuovo miracolo. Il più grande di tutti. La legge automatica. Gli ha dato il nome di legge della natura. Ma ha detto che la legge naturale è la legge di Dio. Cioè, sono due nomi intercambiabili per una sola cosa. Sì, disse Miguel. E ha detto che imporrà quella legge naturale o di Dio in tutti i suoi domini e che la sua autorità sarà suprema e inviolabile. Ha anche detto che col tempo creerà animali. Ha aggiunto Gabriel. E li metterà anche sotto l'autorità di detta legge. Sì, disse Satana. L'ho sentito bene, ma non lo capisco. Cosa sono gli animali, Gabriel? Oh, come vuoi che lo sappia? Come può saperlo qualcuno di noi? E' un nuovo mondo. Nel tempo celeste trascorrono tre secoli, equivalenti a cento milioni di anni nel tempo terrestre. Entra un angelo messaggero. Signori, sta creando animali. Vorreste venire a vederlo? Andarono. Videro e rimasero perplessi. Veramente perplessi. Il creatore, rendendosi conto di questo, disse loro, Chiedi. Io ti risponderò. Oh, Divine, disse Satana rispettosamente. A cosa servono? Sono un esperimento di mortale e condotta. Osservali e sarai istruito. Ce n'erano migliaia. Hanno mostrato un'enorme attività. Erano occupati, molto impegnati e per lo più si rincorrevano. Dopo aver esaminato uno di loro con un potente microscopio, Satana ha commentato Questa grande bestia sta uccidendo gli animali più deboli o divino. La tigre. Sì. La legge della sua natura è la ferocia. La legge della tua natura è la legge di Dio. Non puoi disobbedirgli. Quindi, obbedendole, non commetti alcuna offesa o divino. No. È innocente. Quest'altra creatura qui è timida o divino e soffre la morte senza resistere. Il coniglio. Sì. Non ha valore. È la legge della tua natura. La legge di Dio. Devi obbedirgli. Allora, non ti può essere chiesto onorevolmente di resistere alla tua natura o divino? No. Nessuna creatura può essere chiamata in modo onorevole a confrontarsi con la legge della sua natura. La legge di Dio. Dopo molto tempo e dopo aver risposto a molte domande, Satana disse il ragno il ragno uccide la mosca e la mangia. L'uccello uccide il ragno e lo mangia. Il gatto selvatico uccide l'oca e il... Comunque si uccidono tutti a vicenda. È un omicidio ancora e ancora. Siamo davanti a innumerevoli moltitudini di creature e tutte uccidono. Uccidono, uccidono. Sono tutti assassini e non possono essere incolpati o divino. Non puoi biasimarli. È la legge della natura. e la legge della natura è sempre la legge di Dio. Ora guarda. Guarda. Una nuova creatura. Il capolavoro. L'umano. Poi è arrivata una mandria di uomini, donne e bambini affrotte. Milioni. Cosa ne farai di loro, o divino? Darò ad ogni individuo con grandi sfumature le varie qualità. Morale. Distribuito con un'unica caratteristica distintiva nel mondo animale. coraggio. Codardia. Ferocia. Mitezza. Bellezza. Giustizia. Astuzia. Tradimento. Magnanimità. Crudeltà. Malizia. Lussuria. Misericordia. Misericordia. Pietà. Purezza. Egoismo. Gentilezza. Onore. Amore. Odio. Viltà. Nobiltà. Lealtà. Falsità. veridicità disonestà ogni essere umano sarà dotato di queste qualità e costituiranno la sua natura in alcuni le proprietà buone elevate cancelleranno quelle cattive e quelli saranno chiamati buoni umani in altri predomineranno le cattive proprietà e quelli saranno chiamati cattivi umani adesso guarda guarda come scompaiono dove sono andati o divine? sulla terra loro e tutti i loro compagni animali cos'è la terra? un palloncino che ho creato due eternità e mezza fa l'hai visto ma non gli hai prestato attenzione perché era incluso nell'esplosione di mondi e soli che mi sono sfuggiti di mano l'essere umano è un esperimento e anche gli altri animali lo sono il tempo dirà se ne è valsa la pena la demo è finita potete ritirarvi signori passarono diversi giorni ciò presuppone un lungo periodo del nostro tempo poiché in cielo un giorno dura mille anni satana aveva fatto commenti entusiastici sulle opere amirevoli del creatore commenti che tra le loro righe erano sarcasmo credeva di parlare con sicurezza con i suoi buoni amici gli altri arcangeli ma gli angeli ordinari avevano sentito per caso e lo avevano riferito al quartier generale quando si seppe fu condannato all'esilio per un giorno cioè un giorno celeste era una punizione a cui era abituato a causa della sua lingua un po' sciolta per mancanza di un altro posto veniva sempre deportato nello spazio dove volava noiosamente per tutta la notte eterna in cui faceva freddo artico ma in questa occasione gli venne in mente di continuare ad avanzare alla ricerca della terra per vedere come stava andando l'esperimento della razza umana dopo un po' scrisse a casa per sfogarsi privatamente a San Michele e San Gabriele le lettere di Satana lettera 1 questo è un posto strano un posto straordinario e interessante a casa non c'è niente di simile le persone sono tutte pazze e anche gli altri animali la terra è pazza come la natura stessa che lo è anche l'umano è una meravigliosa curiosità nella migliore delle ipotesi è una specie di angelo di grado inferiore nichelato nel peggiore dei casi è un essere ineffabile e inimmaginabile ma dall'inizio alla fine e sempre è sarcasmo eppure ingenuamente e sinceramente si definisce l'opera più nobile di Dio quello che ti dico è vero e non è un'idea nuova in lui piuttosto lo ha ripetuto da tempo immemorabile tanto che è arrivato a crederci senza che nessuno in tutta la sua razza possa riderci sopra inoltre se mi permetti di soffermarmi un po' l'umano è considerato l'animale preferito del creatore è convinto che il creatore non è solo orgoglioso di lui ma lo ama che ha una passione per lui e che passa le sue notti sveglio pieno di ammirazione si veglia su di lui e tenendolo fuori dal pericolo quando prega è convinto che il creatore lo ascolti non è un'idea bizzarra riempie le sue preghiere di complimenti goffi rozzi e fioriti convinto che il creatore si sieda e faccia le fusa di piacere nel sentire tali stravaganze non passa giorno senza che lei preghi per aiuto favori e protezione sempre con ottimismo e fiducia anche se nessuna delle sue preghiere è mai stata esaudita l'affronto quotidiano e la sconfitta costante non lo scoraggiano mentre continua a pregare come se nulla fosse c'è qualcosa di quasi bello in quella perseveranza ma lasciatemi superare qualcos'altro l'umano l'umano pensa di andare in paradiso dopotutto ha insegnanti salariati che glielo dicono mentre gli dicono che c'è un inferno di falò eterni in cui andrà se non osserverà i comandamenti e quali sono i comandamenti bene è una curiosità ne parlerò più tardi lettera 2 niente di quello che ti ho detto sull'umano che non sia vero per favore perdonami se ripeto questo commento qua e là in queste lettere voglio che tu prenda sul serio tutto ciò che ti dico e penso che se tu fossi al mio posto e io al tuo di tanto in tanto avrai bisogno di quel promemoria per evitare che la mia credulità vacilli la verità è che tutto ciò che riguarda l'essere umano è strano per un immortale non vede niente nel modo in cui lo vediamo noi il loro senso delle proporzioni è molto diverso dal nostro e la loro scala dei valori è così diversa in ogni cosa che nonostante la grande capacità intellettuale è improbabile che anche il più dotato di noi lo capirà mai ad esempio ecco un esempio l'umano ha immaginato un paradiso ma privandolo della suprema delizia dell'estasi che occupa il primo posto nel cuore di tutti gli individui della sua razza e della nostra il rapporto sessuale è come se un morente che si perde in un deserto arido fosse presentato un salvatore che diceva che avrebbe esaudito tutti i suoi desideri tranne uno e ha scelto di rimanere senza acqua il suo cielo è come lui strano interessante sorprendente e grottesco ti do la mia parola non c'è una singola caratteristica in quel luogo che l'essere umano apprezza davvero consiste assolutamente e totalmente di divertimenti di cui si preoccupa poco meno di niente qui sulla terra pensi che ti piaceranno in paradiso non è divertente non è interessante non pensare che esagero perché non è così ti darò maggiori dettagli per esempio la maggior parte degli umani non canta perché in generale non sa cantare né è disposta a restare dove cantano gli altri se questo dura più di due ore prendine nota solo circa due umani su cento sono in grado di suonare uno strumento musicale e solo quattro su cento hanno il desiderio di imparare a farlo lascia che sia chiaro per te molti umani pregano ma a pochi piace alcuni pregano a lungo intensamente mentre altri prendono la via più breve più umani vanno a messa di quanti ne vogliono per 49 uomini su 50 la domenica è davvero una noia tremenda di tutti gli umani che vanno a messa la domenica due terzi si stufano quando il sermone è finito a metà e il resto prima che sia finito il momento più felice per tutti loro è quando il predicatore alza le mani per impartire la benedizione si ode allora un mormorio di sollievo per la chiesa carico della più sincera gratitudine ogni nazione disprezza il resto delle nazioni ogni nazione ha un'antipatia per le altre nazioni tutte le nazioni bianche non amano le nazioni di colore qualsiasi esse siano e le opprimono quando possono gli esseri umani bianchi non si associano o si sposano con gli esseri umani neri è loro vietato entrare nelle loro scuole e chiese il mondo intero odia gli esseri umani ebrei e li tollera solo se sono ricchi ti prego prendine buona nota di tutti questi dettagli ancora di più gli esseri umani sani di mente odiano il rumore tutti sani o folli vogliono avere varietà nella loro vita la monotonia li stanca rapidamente ogni essere umano secondo l'equipaggiamento mentale che gli è stato assegnato nel cast esercita il suo intelletto a tutte le ore costantemente una pratica che costituisce una parte enorme apprezzata ed essenziale della sua vita dagli intelletti più bassi a quelli più dotati tutti possiedono alcune abilità che danno loro un grande piacere nel provare dimostrare e profezionare il ladro che supera il suo partner nei giochi si applica a loro con la stessa diligenza ed entusiasmo dello scultore del pittore del pianista del matematico e così via nessuno di loro potrebbe essere felice se i loro talenti fossero messi in discussione bene ecco i fatti ora sai cosa gode la razza umana e cosa no curiosamente la sua gente ha inventato un paradiso dal nulla non indovini com'è non saresti in grado di scoprirlo tra 1500 eternità la mente più dotata che conosci o almeno lo so non ce la farebbe per 50 milioni di eoni bene ti dirò com'è uno prima di tutto fissa la tua attenzione sul fatto straordinario con cui ho iniziato cioè l'essere umano come noi immortali pone la relazione sessuale molto al di sopra del resto dei piaceri ma l'ha lasciata fuori dal paradiso l'idea stessa del sesso lo eccita l'opportunità di esercitarti ti fa impazzire in un tale stato è capace di rischiare la sua vita il suo onore tutto anche quel suo peculiare paradiso per cogliere l'opportunità di raggiungere il culmine dalla giovinezza alla mezza età uomini e donne apprezzano la copulazione al di sopra di tutti gli altri piaceri insieme ma quello che vi ho detto accade non l'hanno inclusa nel paradiso dove la preghiera prende il suo posto tuttavia nonostante l'importanza che gli attribuiscono è povero come il resto dei cosiddetti piaceri nel migliore e più prolungato dei casi l'atto è così breve che non puoi nemmeno immaginarlo per quanto immortale sei ovviamente quanto alla ripetizione nell'atto umano è molto limitato ahimè quanto lontano dal concetto immortale noi che l'abbiamo prolungato per secoli con tutti i suoi supremi piaceri intatti non potremo mai comprendere o simpatizzare adeguatamente con la terribile povertà di queste persone rispetto a un dono prezioso che mentre ne godiamo rende il resto dei beni così banale che ne merita un inventario 2 nel paradiso umano tutti cantano chi non ha cantato sulla terra canta lì chi non è riuscito a cantare sulla terra sa cantare lì questa canzone universale non è breve o sporadica né è alleviata da intervalli di silenzio ma continua tutto il giorno e ogni giorno per 12 ore di fila e tutti stanno ad ascoltarlo mentre sulla terra il sito corrispondente sarebbe stato svuotato in due ore in paradiso cantano solo inni sai piuttosto un solo inno le parole sono sempre le stesse il numero sono solo una dozzina non c'è rima non c'è poesia alleluia 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 signore dio del cielo e viva e viva e viva si boom ah tre a tutti questi ognuno ha la sua arpa i milioni e milioni di umani che sono anche se quando erano sulla terra non venti su mille sapevano suonare uno strumento ne avevano il minimo interesse per l'apprendimento immagina il rugito di un uragano assordante milioni e milioni di voci che urlano insieme milioni e milioni di arpe che digrignano i denti allo stesso tempo e dimmi non è sinistro terrificante e spaventoso bene si scopre che è un atto di lode un complimento un complimento un'adulazione ti chiedi chi sarà disposto a sopportare questo strano complimento questo complimento squilibrato e chi non solo lo sostiene ma lo apprezza lo gode lo chiede lo esige bene trattieni il respiro è dio il dio di questa razza intendo seduto sul suo trono con la sua corte di 24 anziani e altri dignitari osserva i suoi milioni e milioni di appassionati adoratori sorride calorosamente annuisce soddisfatto a nord a est a sud lo spettacolo più pittoresco e buffo che tu possa mai immaginare credo inutile dire che l'inventore dei cieli non ha avuto l'idea da solo ma l'ha copiata dalle cerimonie e orpelli di una di quelle povere sovranità perdute nelle piantagioni dell'est come abbiamo detto tutti i bianchi sani di mente odiano il rumore eppure hanno tranquillamente accettato un simile paradiso senza fermarsi un minuto a pensare e riflettere o esaminare la questione inoltre non vedono l'ora anziani dai capelli grigi e profondamente devoti trascorrono gran parte del loro tempo sognando il momento in cui abbandoneranno le preoccupazioni di questa vita per entrare nella felicità di quel luogo ma si vede chiaramente quanto sembra loro irreale e quanto poco gli importi come un fatto vero perché non si preparano né si esercitano per il grande cambiamento che sta arrivando nessuno di loro è mai visto con un'arpa né viene ascoltato come hai visto lo spettacolo insolito che ho descritto è un atto di lode cioè lode con innie e prostrazioni sostituisce la suddetta messa la cosa divertente è che sulla terra queste persone non sono in grado di sopportare una messa molto lunga il limite è di un'ora e un quarto e l'hanno lasciato solo una volta alla settimana la domenica insomma un giorno su sette e non aspettano troppo in anticipo bene pensa a ciò che il paradiso offre loro una messa eterna è una domenica senza fine nonostante tutto che siano stufi di questa breve devozione settimanale non vedono l'ora che arrivi l'eterna domenica inoltre sognano e ne parlano perché vogliono credere che gli piacerà con tutta la semplicità del loro cuore vogliono convincersi a vicenda che saranno felici questo perché non pensano vogliono solo credere ma non sono in grado di pensare su diecimila esseri umani nemmeno due hanno un cervello e per quanto riguarda l'immaginazione guarda il suo paradiso lo accettano lo approvano lo ammirano questo ti darà la sua misura intellettuale 4 l'inventore del paradiso umano mette lì nella stessa confusione tutti i paesi del mondo il tutto in assoluta uguaglianza senza che nessuno si distingua dagli altri devono essere fratelli cioè mescolarsi pregare suonare l'arpa cantare insieme gli alleluia bianchi neri ebrei tutto senza distinzione qui sulla terra tutti i paesi si odiano a vicenda e il mondo intero odia gli ebrei ma ogni umano devoto adora quel cielo e vuole entrarvi lo vuoi davvero e quando entra in onestasi mistica vuole credere che se fosse in paradiso amerebbe la folla con tutto il cuore tutto lì sarebbe abbracci abbracci e ancora abbracci che meraviglia di creatura chi lo ha inventato 5 ogni essere umano sulla terra ha una certa intelligenza in misura maggiore o minore ma qualunque cervello tu abbia sei orgoglioso di averlo è tutto l'umano sporge il petto quando viene nominato ai maestosi capi intellettuali della sua razza di cui ama sentire raccontare le splendide gesta poiché hanno lo stesso sangue onorando se stessi l'hanno onorato guarda di cosa è capace la mente umana esclama poi recita l'elenco degli illustri uomini di tutti i tempi rivedendo le immortali letterature che hanno dato al mondo i dispositivi meccanici che hanno inventato le glorie con cui hanno addornato la scienza e l'arte davanti a loro si scopre come davanti agli stessi monarchi rendendo loro l'omaggio più profondo più sincero che il suo cuore giubilante possa dare esaltando così l'intelletto al di sopra di tutte le cose del mondo intronizzandolo sotto la volta del cielo in una supremazia irraggiungibile non sembra strano curioso sconcertante bene è come te voglio dire per quanto possa sembrare incredibile questo umano un sincero adoratore dell'intelletto prodigo nel premiare i suoi potenti servizi qui sulla terra ha inventato una religione e un paradiso che non rendono il minimo omaggio all'intelletto privi di ogni distinzione o grandezza in effetti non ne parlano nemmeno ormai avrai notato che il paradiso è stato pensato e costruito con un piano ben preciso in modo tale da contenere in scrupolosi dettagli tutte le cose immaginabili che ripugnano agli esseri umani e non una sola di quelle che a loro piace ebbene più andiamo avanti più è evidente che sarà questo fatto curioso prendi nota l'intelligenza non si esercita nel cielo umano né c'è nulla in cui possa essere usata là un normale intelletto marcierebbe in un anno sarebbe diventato marcio e puzzolente marcio e puzzolente cioè benedetto alla fine sarebbe un cervello sacro perché solo il sacro può resistere alle gioie di tale alienazione lettera 3 forse ti sei già reso conto che l'essere umano è un curioso esemplare da tempo immemorabile ha avuto centinaia e centinaia di religioni che usa e scarta oggi conta anche altre centinaia e centinaia di religioni e ogni anno ne pubblica non meno di tre nuove questa cifra potrebbe essere aumentata e rimarrebbe corretta una delle sue principali religioni è la cosiddetta cristiana uno schizzo ti interesserà è spiegato in dettaglio in un libro di due milioni di parole chiamato vecchio e nuovo testamento anche un altro nome com'era la parola di dio ebbene un cristiano crede che ogni parola del libro sia stata dettata da dio lo stesso dio di cui ho parlato prima il libro è pieno di interesse ha altre poesie favole spiritose passaggi di storia sanguinosa uno strano principio morale un'enorme profusione di oscenità e oltre mille bugie la maggior parte di questa bibbia è costruita da frammenti di altri libri sacri caduti in disuso pertanto non è originale come ci si potrebbe aspettare i tre o quattro eventi formidabili e impressionanti che contiene provengono tutti dalla bibbia precedente i suoi migliori precetti e norme di condotta derivano anche da quelle bibbie in questo ci sono solo due cose nuove l'inferno per cominciare e quel paradiso unico di cui ti ho già parlato cosa fare al riguardo se pensiamo come queste persone che il loro dio sia stato capace di inventare simili crudeltà lo calunniamo ma se crediamo che queste persone abbiano inventato tutto da sole allora sono loro che vengono calunniate comunque sia questo è uno spiacevole dilemma poiché nessuna delle due parti ci ha fatto del male alla ricerca della tranquillità optiamo per uno dei due uniamo le forze con la gente e carichiamo con tutta la zavorra del paradiso dell'inferno della bibbia e così via non sembra giusto o sbagliato ma vedendo quel cielo così penosamente pieno di tutto ciò che disgusta un essere umano come possiamo credere che un essere umano lo abbia inventato e quando ti racconto dell'inferno ti soprafferrò così tanto che probabilmente mi dirai no un umano non immaginerebbe mai un posto simile né per se stesso né per chiunque altro è semplicemente incapace quella bibbia innocente spiega come era la creazione divina di cosa dell'universo ebbene sì dell'universo in sei giorni Dio l'ha creato anche se non l'ha chiamato universo questo è il nome moderno Dio si è dedicato completamente a questo mondo qui l'ha costruito in cinque giorni e come l'ha finita? è venuto fuori che ci è voluto un solo giorno per creare 20 milioni di soli e 80 milioni di pianeti e a cosa servivano secondo lui? bene per dare alla luce il loro piccolo mondo di giocattoli quella era tutta la sua giustificazione non ne aveva altri uno dei 20 milioni di soli il più piccolo l'avrebbe illuminata durante il giorno e il resto avrebbe aiutato una delle sue innumerevoli lune dell'universo a modificare l'oscurità delle sue notti senza dubbio pensava che i suoi clienti appena creati sarebbero apparsi pieni di diamanti dalle sue miriade di stelle accecanti dal mondo in cui il sole del primo giorno sarebbe calato sotto l'orizzonte la verità è che nessuna stella brillava in quel cavo nero fino a tre anni e mezzo dopo il completamento dei formidabili lavori di quella settimana memorabile forse apparve una stella solitaria e abbandonata e all'improvviso incominciò a brillare tre anni dopo le apparve un altro i due hanno indossato insieme per oltre quattro anni prima che un terzo si unisse a loro alla fine dei primi cento anni c'erano meno di venticinque stelle che scintillavano nell'immensità di quei cieli tenebrosi e mille anni dopo non c'erano ancora abbastanza stelle per essere viste né per essere considerate uno spettacolo un milione di anni dopo appena alla metà dell'attuale getto è penetrato nei confini telescopici con la loro luce e il resto ha impiegato un altro mezzo milione di anni per andare avanti come si suol dire poiché il telescopio non esisteva allora il suo avvento è passato inosservato l'astronomo cristiano sa da circa 300 anni che non è stata la sua divinità a creare le stelle durante quei sei terrificanti giorni ma lo scienziato cristiano non elabora tali dettagli nemmeno il prete della sua parrocchia nel suo libro Dio rende eloquenti le sue opere potenti battezzandoli con i nomi più grandi che riesce a trovare dimostrando così la sua ferma e totale ammirazione per la grandezza tuttavia ha creato milioni di soli prodigiosi per illuminare questo piccolo globo invece di crearlo il minuscolo sole di questo pianeta gli renderebbe omaggio il fatto è che nel suo libro Dio menziona Arturo che sicuramente ricorderai perché ci siamo stati una volta è una delle lampade che illuminano la terra di notte bene quel globo gigante è 50 volte più grande del sole su questo pianeta quindi sarebbe come paragonare una cattedrale a un melone tuttavia nelle lezioni di religione insegnano ancora ai bambini che Arturo è stato creato per aiutare a illuminare questa terra che il bambino crede e continua ad accettare nel corso degli anni anche sapendo che molto probabilmente non sarà così secondo il libro e i suoi servitori l'universo ha appena 6.000 anni è stato negli ultimi 100 anni che gli esseri umani studiosi e attenti hanno scoperto che la cifra è più vicina a 100 milioni di anni ma in quei famosi 6 giorni il tuo Dio creò l'uomo e tutti gli altri animali ha fatto un uomo e una donna e li ha messi in un bel giardino con le altre creature lì vissero tutti insieme in pace e in armonia e traboccanti di giovinezza ma solo per un po' finché non arrivarono i guai Dio aveva detto all'uomo e alla donna che non dovevano mangiare il frutto di un certo albero e ha aggiunto un commento molto strano ha detto che se lo avessero mangiato sarebbero sicuramente morti era strano per il semplice motivo che non avendo mai visto un caso di morte era impossibile per loro sapere cosa intendesse Dio né lui né nessun altro Dio avrebbe potuto creare quei bambini ignoravano di cosa si trattasse senza offrire loro un campione della suddetta morte la parola la parola stessa non aveva significato per loro così come non avrebbe significato per un bambino di pochi giorni poco dopo un serpente aspettò che fossero soli e camminò in piedi come i serpenti erano consueti camminare in quei giorni il serpente disse loro che il frutto proibito avrebbe fatto traboccare di saggezza le loro menti così ci hanno provato lì che è del tutto naturale poiché gli esseri umani hanno nella loro natura il desiderio di conoscere nonostante il sacerdote come quel Dio che imita e rappresenta si sia dedicato sin dall'inizio a impedirgli di conoscere tutto ciò che poteva essere di lui utile Adamo ed Eva mangiarono il frutto proibito e improvvisamente una grande luce inondò le loro menti avevano appena acquisito saggezza e che saggezza era quella una saggezza utile no semplicemente la consapevolezza che c'era una cosa chiamata bene e un'altra chiamata male qualcosa che poteva essere fatto abbastanza facilmente fino ad allora non sapevano come farlo pertanto tutti i suoi atti precedenti erano stati immacolati liberi da ogni offesa o colpa ma ora erano capaci di fare il male e soffrire per questo avevano acquisito quello che la chiesa considera un bene inestimabile il senso della morale che non solo differenzia l'umano dalla bestia ma lo pone anche al di sopra di esso a dire il vero sarebbe più appropriato considerarlo inferiore alla bestia perché è sempre colpevole dei suoi cattivi pensieri mentre la bestia ha una mente pulita e innocente è come apprezzare un orologio che funziona male più di uno che funziona bene la chiesa considera ancora il senso della morale come il dono più nobile dell'essere umano sebbene sappia che Dio lo teneva chiaramente in bassa stima e aveva fatto di tutto nella sua mano goffa per impedire ai suoi allegri figli del giardino di acquisirlo ebbene Adamo ed Eva sapevano già cosa fosse il male e come farlo avevano imparato a fare vari tipi di cose cattive una delle quali spiccava principalmente quella che Dio aveva in mente in primo luogo riguardava l'arte e il mistero del sesso è stata una meravigliosa scoperta per loro hanno smesso di essere oziosi per dedicargli tutta la loro attenzione poveri esseri giovani ed esultanti nel mezzo di una di quelle celebrazioni hanno sentito Dio che camminava per il giardino come era sua abitudine nei pomeriggi e hanno avuto paura perché perché erano nudi si erano appena resi conto fino ad allora era qualcosa che non aveva importanza per loro né per Dio fu in quel momento memorabile in cui nacque vanità che alcune persone iniziarono ad apprezzarsi da quel momento anche se è evidente che sarebbe stato difficile per loro spiegare il motivo Adamo ed Eva vennero al mondo nudi e senza vergogna nudi e con una mente pura e nessun suo discendente è stato diverso tutti sono arrivati nudi senza vergogna e con una mente pulita allo stesso modo erano dotati di modestia a non hanno avuto altra scelta che acquisire vanità e cattivi pensieri così sono le cose il dovere di ogni madre cristiana è quello di sporcare la mente del figlio di cui è ben consapevole la sua prole cresce diventa missionaria e si mette alla ricerca degli innocenti giapponesi selvaggi e civili per sporcare le loro menti da quel momento in poi acquisiscono vanità iniziano a coprire i loro corpi e smettono di fare il bagno insieme la convenzione erroneamente chiamata modestia non ha un modello né può averne uno poiché è opposta a natura e ragione essendo artificiale è soggetto al capriccio al capriccio malato di chiunque in India l'elegante donna si copre il viso e il petto e porta le gambe nude dalla vita in giù mentre l'elegante europea si copre le gambe ed espone il viso e il petto nelle terre popolate da selvaggi innocenti l'elegante europeo si abitua presto a vedere il nativo adulto completamente nudo e smette di sentirsi offeso nel diciottesimo secolo un conte e una contessa francesi entrambi raffinati ma non imparentati in comune naufragarono su un'isola deserta indossavano entrambi la biancheria da letto e non ci volle molto prima che fossero nudi per una settimana si sono vergognati e poi non hai mai visto una persona vestita beh non ti perdi niente continuiamo con le curiosità bibliche naturalmente penserai che la minaccia di punire Adamo ed Eva per aver disobbedito non è stata eseguita poiché non erano gli autori di se stessi o dei loro impulsi o debolezze naturali pertanto non erano soggetti agli ordini di nessuno né erano responsabili verso nessuno delle loro azioni ben sarai sorpreso di sapere che la minaccia divina è stata eseguita Adamo ed Eva hanno ricevuto la loro punizione annunciata un crimine che persino oggi ai suoi apologeti la condanna a morte è stata scontata come puoi vedere l'unica persona responsabile del reato della coppia era irreprensibile inoltre era il carnefice degli innocenti nel tuo regno e nel mio avremo il privilegio di poter ridere di simili costumi ma qui sarebbe crudele molte di queste persone sono dotate di una facoltà razionale ma nessuno la usa in materia religiosa le venti più illuminate ti diranno che quando un essere umano genera un figlio ha l'obbligo morale di trattarlo con affetto proteggerlo dal pericolo prendersi cura di lui quando è malato vestirlo nutrirlo sopportare la sua disobbedienza non mettergli una mano addosso se non con gentilezza e per il suo proprio bene e mai in ogni caso inflingergli ingiustizia e crudeltà dall'alba al tramonto il trattamento che Dio riserva ai suoi figli terreni è l'opposto ma queste menti illustri giustificano calorosamente i loro crimini li perdonano li scusano e si rifiutano con indignazione anche di considerarli i crimini poiché è lui che li ha commessi il nostro padre il tuo e il mio è interessante sì ma non la metà della mente umana ebbene prima Dio bandì Adamo ed Eva dal giardino e poi poi li uccise e tutto per aver disobbedito a un ordine che non aveva il diritto di dare ma non si è fermato qui come vedrai Dio ha un codice morale per se stesso e uno molto diverso per i suoi figli che sono tenuti a trattare i criminali con giustizia e indulgenza e a perdonarli settanta volte sette tuttavia non tratta nessuno con giustizia o indulgenza né ha perdonato quella prima coppia di giovani ignoranti e storditi per un inciampo così insignificante avrebbe potuto dire loro questa volta siete liberi ti darò un'altra possibilità beh no ha preferito punire i figli della coppia per sempre e fino alla fine dei tempi per un piccolo errore commesso da altri prima che nascessero continuo ancora a punirli con poca severità no in modo eclatante forse supponi che questo essere non riceverà molte lodi mi dispiace doverti deludere il mondo lo chiama sempre giusto sempre onorato sempre buono sempre misericordioso sempre perdonatore sempre veritiero sempre amorevole ed eterno principio della moralità questi sarcasmi si ripetono quotidianamente in tutto il mondo ma non sono sarcasmi consapevoli no si dicono seriamente e senza un accenno di sorriso lettera 4 come dicevamo la prima coppia lasciò il giardino gravata da un'eterna maledizione avevano perso tutti i piaceri che avevano prima della caduta ma potevano considerarsi ricchi perché avevano acquisito un'abilità che valeva quello che tutti gli altri avevano messo insieme conoscevano l'arte suprema la praticavano diligentemente il che li riempiva di gioia la divinità aveva comandato loro di praticarlo e questa volta obbedirono meno male che non era proibito dato che l'avrebbero praticato comunque anche se mille divinità lo avessero proibito ben presto i risultati arrivarono e furono chiamati dopo Caino e Abele e quando sono arrivate le sorelle hanno saputo trattarle adeguatamente quindi c'erano più risultati cioè Caino e Abele hanno generato nipoti e nipoti i suddetti a loro volta hanno generato cugini di secondo grado arrivò un momento in cui la classificazione della parentela divenne difficile quindi ogni tentativo di mantenerla fu abbandonato il piacevole lavoro di popolare il mondo è stato portato avanti con enorme efficienza generazione dopo generazione in quei giorni felici entrambi i sessi erano ancora esperti nell'arte suprema sebbene in tutta onestà dovevano essere morti da circa 800 anni era evidente che il sesso più dolce più caro e più bello dei due era al suo meglio poiché riusciva ad attirare anche gli dèi sì i veri dèi sono scesi dai cieli e hanno trascorso dei momenti meravigliosi con quelle giovani donne arrapate in fiore almeno questo è quello che dice la Bibbia con l'aiuto di questi stranieri in visita la popolazione è cresciuta e cresciuta raggiungendo diversi milioni di individui ma la divinità era piuttosto turbata la morale di queste persone non lo convinceva anche se per molti aspetti non era migliore della sua in effetti era un'imitazione poco lusinghiera poiché erano tutti molto cattivi e non c'era modo di riformarli Dio prese la saggia decisione di eliminarli è l'unica idea veramente illuminata e superiore attribuita gli dalla Bibbia che gli avrebbe dato fama eterna se fosse stato in grado di realizzarla ma Dio è sempre stato un essere instabile tranne quando veniva fatta propaganda e le sue forti intenzioni venivano dimenticate il fatto è che era orgoglioso dell'essere umano che era la sua migliore invenzione e il suo animale preferito dopo la mosca non sentendosi in grado di perderlo all'improvviso ha scelto di salvare un campione umano e annegare il resto della specie fare qualcosa del genere era tipico di lui era lui che aveva creato tutte quelle persone famigerate quindi era assolutamente responsabile del loro comportamento nessuno di loro meritava la morte ma sembrava ovvio che sterminarli fosse una buona pratica soprattutto perché l'ultimo crimine li aveva creati e lasciare che continuassero a moltiplicarsi poteva solo peggiorare le cose ma non poteva esserci né giustizia né favoritismo deve annegarli tutti o tutti o nessuno ebbene no io non l'avrei fatto così né avrebbe risparmiato una mezza dozzina e avrebbe messo di nuovo alla prova la specie non contemplava la possibilità che la razza venisse di nuovo rovinata perché lui è solo l'illuminato quando si propaganda dopo aver separato Noè e la sua famiglia ha organizzato tutto per sterminare il resto ha progettato un'arca e Noè l'ha costruita nessuno di loro aveva mai costruito un'arca ne sapeva nulla di cosa fosse un'arca c'era da aspettarsi qualcosa fuori dall'ordinario e così è stato Noè era un contadino che sapeva quali fossero i materiali appropriati per realizzare l'arca ma non era davvero in grado di determinare se sarebbe stata della dimensione corretta o meno come accadde quindi evitò di commentarlo anche la divinità non sapeva che l'arca non era all'altezza ma ha corso un rischio e ha preso le misure sbagliate alla fine la nave era troppo piccola per il compito affidato e ancora oggi il mondo intero se ne risente durante la costruzione dell'arca Noè ha fatto del suo meglio ma ha saltato la maggior parte degli elementi essenziali non aveva timone né vele né bussole né pompe di sentina né carte né scandagli né ancore nessun registro nessuna luce nessuna ventilazione per quanto riguarda l'area passeggeri che era la cosa fondamentale è meglio non tirare in ballo la questione dato che dovevano trascorrere 11 mesi in mare avevano bisogno di acqua pulita per riempire le casse ma non furono fornite bacche aggiuntive era chiaro che non potevano dipendere dall'acqua che ricevevano lungo la strada poiché la metà sarebbe stata acqua salata che gli esseri umani e gli animali terrestri non bevono per tutto questo non solo un campione umano sarebbe stato salvato ma diversi campioni professionali degli altri animali ti ricordo che quando Adamo assaggiò la mela nel giardino e imparò a crescere e moltiplicarsi anche il resto degli animali imparò l'arte guardandolo mentre lo faceva questo mostra l'astuzia e l'abilità che adornano queste bestie poiché hanno sfruttato al meglio la mela senza assaggiarla o essere influenzati dal disastroso senso della morale fonte di tutte le immoralità lettera 5 Noè ha iniziato a raccogliere animali nell'arca ci sarebbero un paio di ognuna delle creature in grado di camminare gattonare nuotare volare nel mondo della natura irrazionale non possiamo sapere quanto tempo gli ci sia voluto per raccogliere gli animali o quanto gli sia costato dal momento che questi dettagli non sono inclusi nella storia quando il consone Simaco iniziò a fare i preparativi per presentare suo figlio nella società della Roma imperiale inviò emissari in Asia in Africa e nel resto del mondo alla ricerca di bestie per il circo beh ci sono voluti tre anni per prendere gli animali e portarli a Roma come capirete stiamo parlando solo di quadrupedi e alligatori non c'erano uccelli serpenti rane vermi pidocchi ratti pulci zecche bruchi ragni mosche o zanzare ma pochi semplici quadrupedi e qualche alligatori e dei quadrupedi solo i predatori tuttavia è successo proprio come ti ho detto ci sono voluti tre anni per raccoglierli e il costo degli animali del trasporto e degli stipendi è stato di circa 4,5 milioni di dollari quanti animali sarebbero noi non lo sappiamo in ogni caso meno di 5.000 che era la somma più grande mai raccolta per uno di quegli spettacoli romani sebbene fosse Tito e non Simmaco il responsabile ebbene questo era un semplice circo per bambini rispetto al contratto di Noah da uccelli bestie e creature d'acqua dolce ad esempio ha dovuto raccogliere 146.000 specie e oltre 2 milioni di insetti ci sono migliaia e migliaia di creature molto difficili da cacciare e se Noah non lo avesse fatto stufo e rassegnato sicuro che avrebbe continuato a farlo come si dice nel Levitico con questo non voglio dire che non abbia abbandonato il compito no non è quello che ha fatto raccolse tutte le creature per le quali sapeva avere spazio e poi si fermò se avesse sempre saputo i requisiti avrebbe saputo che ciò di cui aveva bisogno era un'intera flotta di arche ma non immaginava quanti tipi di creature potevano esserci e nemmeno il loro grande capo lo sapeva questo è il motivo per cui non portava il canguro nello possum nel mostro di gila nell'ornitorinco poiché gli mancavano anche tutta una serie di benedizioni indispensabili che il gentile creatore aveva fornito all'umano ma che aveva dimenticato di fornire in una parte del mondo che non avevo mai visto e che non conoscevo questo è il motivo per cui l'equipaggio dell'arca stava per annegare se sono riusciti a salvarsi non è stato grazie a loro semplicemente non c'era abbastanza acqua per allagare tutto solo una piccola parte del globo è stata allagata e a quel tempo il resto del mondo era sconosciuto ed era considerato inesistente ma ciò che ha davvero deciso di fermare Noè una volta considerando che aveva già abbastanza specie per raggiungere i suoi obiettivi professionali e lasciare che gli altri si estinguessero è stato un incidente accaduto negli ultimi giorni all'improvviso è apparso uno sconosciuto che era nervoso e ha portato le notizie più preoccupanti disse che era stato accampato tra montagne e valli a circa 900 km da lì dove aveva visto qualcosa di straordinario appoggiato su una scogliera che si stagliava su un immenso burrone aveva visto uno stormo di strani animali avanzare come una turbolenta marea nera dopo un po' le creature lo superarono combattendo combattendo prendendo a calci urlando piegnucolando un orribile tumulto di carne e animale bradipi grandi come elefanti rane grandi come mucche un megaterium con il suo harem tutto così enorme che era difficile da credere sauri sauri ancora sauri gruppo dopo gruppo famiglia dopo famiglia specie dopo specie tutti lunghi 30 metri alti 10 metri e due volte più selvaggi uno di loro colpì un povero ignaro toro durham con un tale colpo con la coda che lo fece volare per 100 yard nell'aria e mentre cadeva ai piedi dell'uomo esalò l'ultimo respiro lo straniero disse loro che tutti quegli incredibili animali avevano sentito parlare dell'arca e stavano venendo a cercarla volevano salvarsi dal diluvio e non sono venuti in coppia sono venuti a frotte non sapeva che i passeggeri fossero limitati alle coppie secondo l'uomo ma a loro non importava nemmeno delle regole era chiaro che stavano per salpare su quell'arca e in caso contrario avrebbero chiesto spiegazioni l'uomo ha calcolato che l'arca non si adatterebbe nemmeno alla metà degli animali inoltre venivano affamati e mangiavano tutto quello che potevano compresa la famiglia e la raccolta degli animali tutti questi fatti sono stati esclusi dal racconto biblico non c'è segno di loro uno spesso velo è steso su tutta questa faccenda i nomi di quelle creature giganti non vengono nemmeno menzionati come vedrai questo mostra che quando qualcuno salta una clausola di un contratto cerca di nasconderla con tutti i mezzi nella bibbia o ovunque questi potenti animali avrebbero un valore inestimabile per gli esseri umani oggi per quanto sia ingombrante e costoso il trasporto che spreco a causa di Noè sono annegati tutti circa otto milioni di anni fa niente di meno comunque quando lo sconosciuto finì di raccontare la sua storia Noè si rese conto che era meglio per lui andarsene prima dell'arrivo dei mostri sarebbe salpato al distante ma i tappezzieri e i decoratori stavano dando gli ultimi ritocchi alla stanza del fly perdendolo per l'intera giornata e ancora un altro giorno fu perso nel portare a bordo le mosche di cui erano 68 miliardi sebbene la divinità continuasse a temere che non fossero abbastanza e ancora un altro giorno è stato speso per immagazzinare 40 tonnellate di spazzatura selezionata per nutrire le mosche poi finalmente Noa alzò l'ancora giusto in tempo perché l'arca stava scomparendo dietro l'orizzonte quando i mostri arrivarono e aggiunsero i loro lamenti a quelli della moltitudine di madri e padri piangenti e bambini spaventati che si aggrappavano alle rocce bagnate nel mare inzuppate dalla pioggia sollevandosi le sue preghiere all'essere sempre giusto sempre perdonatore e sempre pio che non aveva risposto a una preghiera poiché la sabbia granello dopo granello formava le scogliere dove si trovavano e sarebbero rimaste senza risposta quando il tempo trasformò la roccia in sabbia un'altra volta lettera 6 il terzo giorno a tarda mattinata scoprirono che era stata lasciata una mosca il viaggio di ritorno è stato lungo e arduo a causa del non avere le carte o la bussola o per l'aspetto così cambiato che tutte le coste avevano perché l'acqua saliva senza sosta e avevano sommerso i punti più bassi dando ai luoghi più alti un aspetto sconosciuto ma dopo 16 giorni di ricerca seria e ostinata la mosca fu finalmente rovinata e accolta a bordo con igni di lode e gratitudine della famiglia sollevata in posizione verticale con il capo scoperto in riverenza per la sua origine divina esausta e abbattuta la mosca era stata assegnata dalle intemperi ma per il resto in buona forma molti erano gli umani che erano morti con le loro intere famiglie sulle brulle vette delle montagne ma la fortunata creatura non era mancato il cibo che gli abbondanti cadaveri le davano marciume abbondante e puzzolente è così che l'insetto sacro ha provvidenzialmente salvato la vita sì provvidenzialmente questa è la parola ebbene non avevano dimenticato accidentalmente la mosca no la mano divina della provvidenza era intervenuta le coincidenze non esistono tutto ciò che accade accade per un motivo le cose le cose sono organizzate dall'inizio del tempo predestinate dall'inizio del tempo fin dagli albori della creazione il signore aveva stabilito che Noè allarmato e confuso dall'invasione del prodigioso esercito di fossili sarebbe andato per mare prima del suo tempo privo di qualche inestimabile malattia avrebbe portato con sé tutte le altre malattie che avrebbe potuto distribuire tra le nuove razze umane così come apparivano nel mondo ma gli sarebbe mancata una delle migliori la febbre tifoidea questa condizione se le circostanze sono particolarmente favorevoli è in grado di distruggere in modo assoluto un paziente senza ucciderlo permettendogli di lasciare il letto con una lunga vita davanti a sé ma sordo muto cieco storpio e cretinoso la mosca è il suo principale mezzo di propagazione essendo più competente e terribile di tutti gli altri distributori della temuta peste messi insieme così questa mosca predestinata dall'inizio dei tempi si è dimenticata di farle ritrovare un cadavere di tifo di cui si nutriva il marciuma e di spalmarsi le zampe con i germi che doveva trasmettere al mondo esclusivamente ripopolato da quel volo e fino ad oggi è veramente difficile capire la mentalità del Dio e della Bibbia poiché la sua confusione è così piena di contraddizioni instabilità indisolvenza e fermezza ferrea dogmi astratti e infantili basati sulle parole e dogmi concreti demoniaci basati sui fatti e bontà fugaci relegate a mali permanenti tuttavia quando dopo molte analisi viene scoperta la chiave della mentalità di Dio si ottiene una sorta di comprensione con la franchezza più pittoresca giovanile e sorprendente ci fornisce lui stesso quella chiave è una questione di gelosia posso immaginare che questo ti abbia tolto il fiato sai perché te l'ho spiegato in una precedente lettera che gli esseri umani giudicano la gelosia come una chiara debolezza una caratteristica delle persone di breve comprensione ma di cui si vergognano anche le menti più limitate per quando sono accusate del suo possesso mentiranno per negarlo e si offenderanno considerando l'accusa come un insulto gelosia non dimenticarlo tienilo a mente questa è la chiave con esso arriverai a comprendere parzialmente Dio mentre andiamo avanti senza di essa nessuno potrebbe capirlo come stavo dicendo è lui stesso che ci fornisce questa chiave insidiosa perché tutti noi la possiamo vedere con la massima ingenuità e senza un pizzico di vergogna proclama apertamente io io il tuo signore Dio sono un Dio geloso in effetti è un modo per dire io il tuo signore Dio sono un Dio limitato un piccolo Dio ossessionato dalle piccole cose le sue parole divine erano un avvertimento non sopportava l'idea di condividere con qualche altro Dio le lodi domenicali della piccola razza umana comica gli voleva tutti per sé sembrava accumulare ricchezze come un uzulu che conta piccoli spiccioli ma aspetta non sono stato giusto lo sto offuscando i pregiudizi mi fanno dire cose che non sono vere non arrivò al punto di dire che voleva mantenere le adulazioni o che non era disposto a condividerle con i suoi compagni dei quello che in realtà ha detto è stato non mettere altri dei davanti a me è qualcosa di completamente diverso che ci offre una prospettiva molto più promettente lo confesso dopo tutto a quei tempi gli dei erano in abbondanza le foreste erano affollate come si dice e tutto ciò che voleva era essere alla stessa altezza degli altri non sopra ma non sotto nessuno di loro essi ha permesso loro di fecondare le vergini terrene ma non in condizioni migliori delle loro voleva essere trattato da pari a pari ha insistito su questo in un linguaggio molto chiaro non voleva che ci fosse un dio prima di lui potevano tutti sfilare al suo fianco senza che nessuno guidasse il corteo un diritto per il quale neanche lui si arrogava e credi che sia riuscito a mantenere quella risoluzione retta e lodevole beh no è stato in grado di difendere una posizione sbagliata per tutta la vita ma non è riuscito a mantenere una posizione corretta per un mese intero alla fine ha finito per abbandonare questa teoria e con la massima tranquillità si è proclamato l'unico dio dell'intero universo ti ho già detto che la chiave è la gelosia nel corso della sua storia sono presenti elementi senza alcuna modestia sono il sangue e le ossa della sua natura la base del suo carattere ogni piccola cosa che ti rende geloso è abbastanza per farti perdere la calma e offuscare la tua comprensione ma nulla alimenta questa tendenza in modo così forte ed esagerato come il sospetto di un'imminente competizione con il consorzio degli dei la paura che Adamo ed Eva mangiando il frutto dell'albero della conoscenza potessero divenire come gli dei infiammò così la sua gelosia da influenzare il suo ragionamento impedendogli di essere giusto con queste povere creature o di liberare la prole innocente della coppia dalla loro crudeltà fino ad oggi la sua comprensione non si è ancora ripresa da quello shock posseduto da allora da una feroce sete di vendetta ha quasi devastato la sua innata ingegnosità dedicandola a inventare dolore miseria umiliazione e angoscia con cui amareggiare le brevi vite dei discendenti di Adamo guarda le malattie che ha escogitato per loro sono così abbondanti che non esiste un libro in cui ci stiano tutte e ognuno di loro è una trappola progettata per una vittima innocente l'essere umano è una macchina una macchina automatica composta da migliaia di meccanismi complessi e delicati che svolgono alla perfezione le loro funzioni armoniose secondo leggi ideate per il suo governo e sulle quali lui stesso non ha autorità controllo per ognuno di questi migliaia di meccanismi il creatore ha ideato un nemico la cui funzione è molestare infastidire perseguitare danneggiare e affliggere con prove dolorose fino alla distruzione finale nel suo sforzo non ha trascurato nemmeno uno di loro dalla culla alla tomba questi nemici sono sempre pronti non riposano mai né di giorno né di notte sono un esercito organizzato una truppa di vessazioni e assalti una forza sempre vigile vigile ansiosa e implacabile che non si arrende né si arrenderà mai i soldati si organizzarono in plotoni compagnie battaglioni reggimenti brigate divisioni e corpi ma a volte si raggruppano per scatenare tutta la loro furia sull'umanità questa è la grande armata del creatore il suo comandante in capo sul campo di battaglia brandisce standardi con i suoi raccapriccianti emblemi al sole disastro malattia la malattia questa è la fonte centrale diligente e devastante che attacca l'umano appena nato fornendogli una miriade di disturbi garrottillo morbillo parotite problemi intestinali mal di denti scarlattina e altre specialità infantili quando il bambino tormentato raggiunge la giovinezza gli fornisce le specialità tipiche di quella fase della vita e lo stalking continua mentre andiamo dalla giovinezza alla maturità dalla maturità alla vecchiaia e dalla vecchiaia alla tomba con tutto quello che sai perché non riesci a capire il soprannome affettuoso che gli umani danno al loro feroce comandante in capo ti do una mano io ma non ridere il nostro padre celeste curioso meccanismo della mente umana il cristiano inizia con una proposizione ferma tanto categorica inflessibile quanto poco compromessa dio è onnisciente e onnipotente una volta stabilita questa premessa nulla può accadere senza che lui lo sappia in anticipo perché nulla accade senza il suo permesso e nulla si adempie se decide di impedirlo è piuttosto categorico non è vero dopo tutto rende il creatore chiaramente responsabile di tutto ciò che accade non è vero il cristiano così lo ammette nella suddetta frase e sembra concederlo con tutto il suo sentimento ed entusiasmo ebbene dopo aver ritenuto il creatore responsabile di tutti i mali malattie e miserie che ti ho detto che lui stesso avrebbe potuto tranquillamente evitare il bravo cristiano gli dà il brutto nome di padre nostro succede proprio come ti dico fornisce al creatore tutti i tratti che caratterizzano un senz'anima e poi arriva alla conclusione che un senz'anima e un padre sono la stessa cosa invece negherà sempre che un pazzo malvagio e il capo di un collegio religioso siano essenzialmente la stessa cosa 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 ne pensi della mente umana cioè nel caso in cui credi ancora che la mente umana esista lettera 7 Noè e la sua famiglia furono salvati se questo può essere considerato un vantaggio dubito che lo sia perché sulla terra non esiste persona intelligente sulla sessantina che acconsentirebbe a vivere di nuovo la propria vita non tuo non di nessuno la famiglia è stata salvata sì ma i suoi membri non erano molto al loro agio in verità tutti afflitti da microbi anche le sopracciglia lo erano sì grasso obeso gonfio come palloncini di tanti microbi quanti ne avevano per quanto la situazione fosse spiacevole non poteva essere evitata perché doveva essere conservato un numero sufficiente di microbi per fornire malattie devastanti alle future razze umane c'erano solo otto persone a bordo che potevano agire come un hotel i microbi erano di gran lunga la parte più importante del carico dell'arca quella per cui il creatore era più interessato e quella a cui era più affezionato dovevano essere tutti ben nutriti e adeguatamente sistemati a bordo dell'arca c'erano germi di tifo germi di colera germi di idrofobia germi di tetano germi di tisi germi della peste nera e diverse centinaia di germi aristocratici soprattutto creazioni preziose portatori d'oro dell'amore di dio per la razza umana doni sacri dell'amorevole padre ai suoi figli tutti loro ovviamente sontuosamente ospitati e lussuosamente curati vale a dire alloggiati nei luoghi più desiderabili che le viscere della famiglia potessero offrire i polmoni il cuore il cervello i reni il sangue i visceri soprattutto nei visceri l'intestino crasso era uno di quei posti preferiti innumerevoli miliardi di loro si sono riuniti lì là hanno lavorato mangiato preso a calci cantato inni di lode e di ringraziamento nel silenzio della notte si poteva udire il suo lieve mormorio l'intestino crasso era davvero il suo settimo cielo l'hanno stipato a terra rendendolo rigido come un tubo del gas questo li ha riempiti di orgoglio e loro inno principale lo menzionarono con gratitudine costipazione o costipazione il tuo suono gioioso io proclamo le più remote viscere umane lo daranno il nome del suo maestro vale a dire ospitato nei luoghi più desiderabili che le viscere della famiglia potessero offrire i disagi dell'arca erano molti e vari la famiglia doveva vivere alla presenza degli innumerevoli animali respirare i loro orribili puzzi ed essere assordata giorno e notte dal fragore fragoroso dei loro rugiti e delle loro urla a parte questi fastidi intollerabili questo era un posto particolarmente inadatto per le donne perché non potevano guardare in nessuna direzione senza vedere diverse migliaia di creature dedicate a crescere e moltiplicarsi per non parlare delle mosche che volteggiavano ovunque inseguendo la famiglia dall'alba al tramonto erano le prime creature ad alzarsi al mattino e le ultime ad addormentarsi al calar della notte ma poiché erano sacri era proibito ucciderli o ferirli non solo avevano un'origine divina ma erano le creature preferite dal creatore le più coccolate nel tempo le altre creature furono disperse qua e là fino a popolare l'intera terra le tigri all'India i leoni e gli elefanti al deserto arido e ai luoghi remoti della giungla gli uccelli alle incommensurabili brughiere gli insetti ha una o un altro clima a seconda della sua natura o condizione ma per quanto riguarda la mosca è una creatura senza nazionalità che fa di ogni luogo la sua provincia ogni clima la sua casa e ogni essere vivente la sua preda ovunque vada porta la sua piaga infernale in giro per il mondo davanti all'essere umano si presenta come ambasciatore divino ministro pleni potenziario e inviato speciale del creatore lo affligge nella culla ragrumandosi nelle sue palpebre acquose ronza morde e molesta il bambino privandolo del sonno e della madre esausta di forze in quelle lunghe veglie che dedica a proteggere il figlio dalla persecuzione di quel fastidioso insetto la mosca molesta l'umano malato a casa in ospedale sul letto di morte fino all'ultimo respiro all'ora dei pasti è un peso anche per lui ma prima di questo ha cercato diversi pazienti con malattie orribili e mortali per entrare nelle loro piaghe e spalmare le loro zampe su un milione di germi mortali poi si avvicina alla tavola di quest'uomo sano e senza esitazione spalma il burro con tutto questo e svuota le sue torte di farina il carico di germi tifoidei ed escrementi che immagazzina nell'intestino la mosca comune distrugge più corpi e uccide più vite dell'intera moltitudine rimanente di messaggeri di dolore e agenti di morte lo studio meticoloso e completo che il creatore dedica al lavoro illustre di rendere un essere umano infelice e impressionante ho già detto che aveva ideato uno specifico agente distruttivo per ogni singolo dettaglio della struttura del corpo senza dimenticarne uno beh è vero molte persone povere devono andare a piedi nudi perché non possono permettersi le scarpe il creatore ha visto una buona opportunità commenterò commenterò di sfuggita che ha sempre gli occhi puntati sui poveri nove decimi del suo catalogo di malattie sono rivolte ai poveri e sono tutte azzeccate i ricchi ottengono solo gli avanzi non sospettare che parli senza conoscenza dei fatti perché non è così la stragrande maggioranza dei disturbi inventati dal creatore sono progettati appositamente per molestare i poveri lo si vede dal fatto che tra i nomi dati dal clero al creatore uno dei più lusinghieri è apprezzato è quello di amico dei poveri non c'è circostanza in cui il clero dedichi al creatore un complimento che assomiglia a un briciolo di verità il nemico più implacabile e ostinato dell'umanità è il tuo padre celeste l'unico vero amico del povero è il suo vicino che simpatizza con lui ha pietà di lui e lo dimostra con grandi sforzi per alleviare i suoi dolori ma in tutti i casi è il suo padre celeste che segna il gol non c'è circostanza in cui il clero dedichi al creatore un complimento che assomiglia a un briciolo di verità lo stesso vale per le malattie se la scienza riesce a sterminare una malattia creata da dio è dio che segna il gol e da tutti i pulpiti gli vengono dedicate lodi propagandistiche richiamando l'attenzione sulla sua bontà sì è lui che l'ha raggiunto potresti aver aspettato mille anni per farlo ma non è niente il clero dice che ci ha pensato per tutto questo tempo quando uomini disperati si ribellano a una tirannia secolare e liberano una nazione la prima cosa che il clero felice fa è annunciarla come opera di dio e supplicare le persone ad inginocchiarsi e lasciare che i ringraziamenti fluiscano verso di lui nella sua parrocchia ogni sacerdote esclama con gioia sappiano i tiranni che l'occhio che non dorme mai li veglia e si ricordi che dio nostro signore non sarà sempre paziente ci dimenticano di dire che è il più lento dell'universo che il suo amato occhio che non dorme mai starebbe meglio a riposare perché ci vuole un secolo per vedere quello che vedrebbe un altro occhio in una settimana e in tutta la storia non c'è un solo caso in cui gli sia capitato per primo un atto nobile ma gli è sempre venuto in mente subito dopo che qualcun altro lo aveva pensato e fatto poi entra e prende il profitto ebbene 6.000 anni fa Sam era afflitto da anchilosomi che essendo di dimensioni microscopiche erano impercettibili a occhio senza aiuto esterno tutti i trasmettitori di malattie particolarmente mortali ideati dal creatore sono invisibili l'idea è geniale per migliaia di anni è stato proprio questo che ha impedito all'uomo di arrivare alla radice dei suoi mali e ha vanificato i suoi tentativi di domarli è stato molto di recente che la scienza è riuscita a scoprire alcuni di questi tradimenti l'ultimo di questi benedetti trionfi scientifici è la scoperta e l'identificazione dell'assassino in un'imboscata che va sotto il nome di anchilo stoma la sua vittima preferita è il pover uomo che cammina a piedi nudi ti aspetta accovacciato tra le sabbie delle regioni calde e si fa strada entrando via piedi non protetti hookworm anchilosoma è stato scoperto due o tre anni fa da un medico che da tempo studiava pazientemente le sue vittime la malattia degli anchilostomi aveva già devastato la terra qua e là da quando Sam era arrivato sul monte Ararat ma non era mai stato nemmeno sospettato che fosse una malattia coloro che ne soffrivano erano disprezzati come persone pigre che erano oggetto di scherno invece di suscitare compassione l'anchilostoma è un'invenzione particolarmente strisciante e dannosa che ha svolto per anni il suo lavoro sul rettizio senza problemi ma viene finalmente sterminata dal suddetto medico e dai suoi assistenti ebbene si scopre che dipende da Dio ci stava pensando e ci vuol loro 6.000 anni per prendere una decisione l'idea di sterminare l'anchilostoma era sua lo avrebbero fatto prima del dottor Charles Walderstiles ma arriva in tempo per segnare il gol come al solito costerà un milione di dollari molto probabilmente Dio stava per donare quella cifra quando ancora una volta un umano si fece avanti in questo caso è il signor Rockefeller mette il milione ma il merito va a qualcun altro come sempre il giornale di questa mattina ci raccontano degli anchilostomi a volte il parassita anchilostoma riduce la vitalità delle persone colpite a tal punto da ritardare nello sviluppo fisico e mentale rende suscettibili di contrarre altre malattie diminuisce la loro capacità lavorativa e nelle regioni dove la malattia è più comune moltiplica il tasso di mortalità per consumo polmonite febbre tifoidea e malaria è stato dimostrato che il ridotto rendimento di alcune popolazioni attribuito per anni alla malattia e al clima e con gravi conseguenze economiche in alcune regioni è in realtà dovuto a questo parassita la malattia non è affatto relegata a una sola classe sociale la sua parte di sofferenza e morte è addebitata sia ai più intelligenti e ricchi che ai meno fortunati stimando basso due milioni di nostri cittadini sono colpiti da questo parassita per quanto grave e diffusa possa essere l'infezione tuttavia le prospettive sono molto rosee la malattia è facilmente riconoscibile si cura velocemente se il trattamento è corretto e si previene con poche semplici precauzioni sanitarie e con l'aiuto di dio ovviamente come puoi immaginare i bambini poveri sono guardati dall'occhio che non dorme mai quella miseria li ha sempre accompagnati né loro né i poveri del signore soprannome sarcastico dove esistono sono mai riusciti a togliere loro l'occhio di dosso così è i poveri gli umidi gli ignoranti sono loro a cui dedica tutta la sua attenzione prendiamo l'esempio della malattia del sonno in africa questa crudele atrocità innescata da una razza di neri ignoranti e inoffensivi che dio ha portato in un luogo perduto ma senza togliergli il suo occhio paterno quello che non dorme mai se si presenta l'opportunità di far soffrire qualcuno cosa è stato organizzato da queste persone prima del diluvio la gente scelto era una mosca questa volta legata al temibile tse tse che governa la regione africana del fiume zambesi la mosca tse tse è specializzata nello sterminio di bovini e cavalli con il suo morso letale quindi il suo ambiente è inabitabile per l'uomo ebbene il terrificante parente del tse tse deposita un microbo che causa la malattia del sonno camera infestato durante il suo viaggio per il mare scaricò i suoi microbi in africa producendo un'epidemia che non si sarebbe placata fino a 6.000 anni dopo quando la scienza approfondì il mistero e scoprì la causa della malattia ora le nazioni devote lodano a dio per essere venuto in aiuto dei poveri neri il clero dice che bisogna ringraziare lui dobbiamo riconoscere che è un essere curioso commette un crimine terribile che dura per 6.000 anni senza interruzioni e crede di avere il diritto di ricevere elogi per aver suggerito a un essere umano di modificare le sue devastazioni ma quella pazienza che gli viene attribuita deve essere vera altrimenti avrebbe fatto precipitare il clero anni fa nella miseria a causa di quelle lusinghe spaventose che gli dedica dai loro pulpiti producendo un'epidemia che non si sarebbe placata fino a 6.000 anni dopo quando la scienza approfondì il mistero e scoprì la causa della malattia per quanto riguarda la malattia del sonno chiamata anche letargia nera la scienza è del seguente parere la malattia è caratterizzata da periodi di sonno a intervalli ricorrenti può durare da 4 mesi a 4 anni ed è sempre mortale i primi sintomi sono l'anguore debolezza stanchezza e vertigini la vittima ha le palpebre gonfie e ha un'eruzione cutanea si addormenta durante le conversazioni e mentre mangia o lavora con il progredire della malattia il paziente si nutre con difficoltà e acquisisce un aspetto smonto la mancanza di nutrizione e la comparsa di piaghe ulcerose lasciano il posto a convulsioni pre-morte durante la malattia alcuni pazienti perdono la sanità mentale ricordiamoci che il padre celeste della chiesa e il suo popolo che hanno inventato la mosca per mandarla a infliggere un lungo periodo pieno di dolore tristezza sofferenza e decrepitezza fisica mentale a un povero selvaggio che non ha fatto alcun male al grande criminale tutti gli umani del mondo hanno pietà del povero malato di colore e tutti lo guarirebbero se potessero per trovare l'unico essere che non si dispiace per lui devi andare in paradiso per trovare l'essere che può guarirti ma senza alcuna intenzione di farlo devi andare sempre nello stesso posto c'è l'unico padre capace di affliggere un suo figlio con questa crudele malattia è l'unico che c'è non tutte le eternità insieme potranno produrne un altro ti piacciono i rimproveri poetici arrabbiati e accesi eccone uno fresco dal cuore ardente di uno schiavo una tale disumanità e umana per umana che fa piangere molte migliaia sto per raccontarvi una storia comprensiva con un tocco di pathos un uomo si converte e chiede al sacerdote cosa può fare per essere degno del suo nuovo status il sacerdote gli chiede imita il nostro padre celeste impara ad essere come lui quindi l'uomo mette tutta la sua determinazione e diligenza nello studio approfondito della bibbia prega per ricevere consigli celesti e inizia le sue imitazioni del modello divino mette una trappola a sua moglie per farla cadere dalle scale facendole rompere la schiena e rimanere paralizzata per tutta la vita tradisce suo fratello consegnandola a un truffatore che gli ruba tutto quello che ha così finisce la sua vita in un manicomio uno dei suoi figli è inoculato con il parassita anch'io stoma un altro con la malattia del sonno e un altro con la gonorrea fa ammalare una figlia di scarlattina e raggiunge la giovinezza sorda muta e cieca uno stato in cui rimane per il resto dei suoi giorni dopo aver aiutato un ruffiano a sedurre la figlia rimasta chiude la porta di casa sua e lei muore in un bordello maledicendolo quindi si presenta in chiesa e il sacerdote gli dice che non è questo il modo per imitare il suo padre celeste il convertito gli chiede dove ha sbagliato ma il prete cambia argomento e gli chiede che tempo fa nella sua città lettera 8 l'umano è senza dubbio l'idiota più interessante che ci sia e anche il più eccentrico tutte le tue leggi scritte sia nella bibbia che al di fuori di essa hanno lo stesso motivo o intenzione limitare o annullare una legge di dio da un semplice fatto difficilmente riesce a ottenere altro che un significato errato non puoi farci niente è così che funziona la confusione che richiama la sua mente vediamo quali sono le cose che considera buone e quanto sono curiose le conclusioni che ne trae ad esempio accetta che dio abbia creato l'uomo ma lo ha fatto senza il tuo desiderio o approvazione sembra chiaro o indiscutibile che questo rende dio l'unico responsabile di tutti gli atti umani ebbene questo invece lo nega accetta che dio ha creato gli angeli perfetti senza macchia immuni al dolore e alla morte e che se avesse voluto avrebbe potuto essere altrettanto gentile con l'uomo ma nega di avere alcun obbligo morale di farlo accetta che l'uomo non abbia alcun diritto morale di generare un figlio e poi affliggerlo con ingiuste crudeltà malattie dolorose o la morte stessa ma rifiuta di limitare i privilegi simili che dio ha con i bambini creati a sua immagine e somiglianza la bibbia e le leggi umane proibiscono l'omicidio l'adulterio la fornicazione la menzogna il tradimento il furto l'abuso e altri crimini ma sostengono che dio non è influenzato da queste leggi e ha il diritto di infrangerle in qualsiasi momento accetta il fatto che dio conferisce a ogni essere umano un indole naturale con un carattere che ha dalla nascita sostiene che l'uomo non può in alcun modo cambiare questo carattere ma deve rimanere sempre sotto il suo dominio ma se un essere umano vive sopraffatto da passioni tremende e un altro le manca è giusto ed equo punire il primo per i suoi misfatti e ricompensare l'altro per essersi astenuto dal commetterli detto questo prendiamo in considerazione le seguenti curiosità natura o carattere prendiamo due casi estremi con la capra e la tartaruga nessuna di queste due creature è responsabile della loro natura ma anzi sono nate con essa come gli umani e non possono cambiarla proprio come l'umano la natura è la legge di dio scritta nel cuore di ogni creatura da dio stesso quindi deve essere e sarà obbedita nonostante qualsiasi divieto o impedimento indipendentemente dalla sua origine ebbene la lussuria è la caratteristica principale della natura della capra la legge divina impiantata nel suo cuore che deve e obbedirà dall'alba al tramonto durante le stagioni degli amori senza fermarsi a mangiare o a bere se la bibbia dicesse al capro non fornicare non commettere adulterio anche l'umano lo sciocco umano riconoscerebbe l'assurdità del divieto accettando di non poter punire il capro per aver obbedito alla legge del suo creatore tuttavia ritiene giusto e corretto che gli esseri umani si sottomettano al divieto tutti nello stesso modo inutile dire che questa è una sciocchezza poiché per natura che è la vera legge di Dio molti esseri umani sono capre che non possono evitare di commettere adulterio quando se ne presenta l'occasione tuttavia ci sono numerosi esseri umani la cui natura consente loro di rimanere intatti e di perdere un'opportunità se l'altra persona manca di attrattiva ma la Bibbia non consente l'adulterio in nessuna circostanza sia che una persona sia in grado di trattenersi o meno il libro di Dio non garantisce alcuna distinzione tra una capra e una tartaruga vale a dire tra la capra nervosa e sensibile che deve praticare ogni giorno l'adulterio perché sennò appassisce e muore e la tartaruga puritana calma e fredda che si concede solo una volta ogni due anni si addormenta alla metà e non si sveglia più per 60 giorni una capra può subire un attacco doloso anche di domenica se c'è una capra maschio a 5 chilometri sotto vento e l'unico ostacolo tra di loro è una staccionata alta 4 metri d'altra parte il signor Tortoise e la signora Tortoise non saranno mai così affamati dei solenni piaceri della fornicazione da dissacrare la domenica per ottenerli ma secondo curiosi ragionamenti umani la capra merita punizione e la tartaruga lode non fornicare è un comandamento questo non fa distinzione fra i seguenti esseri umani poiché tutti devono obbedire neonato bambini in culla scuole giovani e fidanzate giovani adulti anziani anziani uomini e donne di età 40 di 50 di 60 di 70 di 80 di 90 e di 100 il mandato non distribuisce equamente il suo onere poiché sarebbe impossibile nel caso dei tre gruppi di bambini è meno grave invece è severo molto severo molto rigido crudelmente severo con i seguenti tre gruppi con gli ultimi tre gruppi è felicemente indulgente e in un'età in cui il comandamento ha già fatto tutto il danno possibile sarebbe meglio lasciarlo fuori servizio ma con una stupidità quasi comica si applica ai successivi quattro gruppi anch'essi caduti sotto il brutale gioco poveri vecchi non potrebbero disobbedire nemmeno se ci provassero e astenendosi dall'atto di commettere adulterio l'uno con l'altro credono di meritare l'odi per questo il che è una stronzata perché anche la Bibbia sa perfettamente che l'uomo più anziano di tutti se potesse riacquistare il vigore perduto per un'ora manderebbe il comando il più lontano possibile e disonorerebbe la prima donna che incontra anche se fosse di uno sconosciuto assoluto quello che ti dico è vero tutti i precetti della Bibbia e tutte le norme umane cercano di annullare una legge di Dio vale a dire una legge naturale inalterabile e indistruttibile il Dio di queste persone ha mostrato loro milioni di volte che non rispetta nessuno dei precetti della Bibbia lui stesso li rompe tutti anche l'adulterio la legge di Dio chiaramente spiegata nella sezione sulla creazione delle donne è questa non avrai alcun limite nella relazione sessuale che hai con l'altro sesso per tutta la vita la legge di Dio chiaramente spiegata nella sezione sulla creazione dell'uomo è questa per tutta la vita avrai limiti e restrizioni sessuali inflessibili dall'adolescenza fino alla morte di vecchiaia una donna è pronta all'azione ed è competente per 27 giorni al mese in assenza di gravidanza competente come un candeliere che riceve una candela competente ogni giorno competente ogni sera inoltre lei vuole quella candela sospira per lei con desiderio e desiderio come la legge di Dio gli comanda per natura ma l'uomo è competente solo per un breve periodo e nella misura applicabile a questa parola nel caso specifico del suo sesso è competente dall'età di 16 o 17 anni in poi per circa 35 anni dopo i 50 la sua prestazione è di scarsa qualità gli intervalli sono ampi e le sue soddisfazioni non sono di grande valore per nessuna delle due parti la sua bisnonna intanto è come nuova perché la macchina funziona senza problemi mentre lei ha il candeliere più solido che mai la sua candela sarà sempre più flaccida è indebolita dal passare del tempo fino al giorno in cui non può stare in piedi ed è tristemente a riposo in attesa di una resurrezione benedetta che non verrà mai per quanto riguarda la donna la costruzione dei suoi macchinari richiede che sia fuori servizio tre giorni al mese e durante parte della gravidanza per lei sono momenti di disagio e spesso di sofferenza in un giusto e giusto compenso al nobile privilegio di un adulterio illimitato ogni altro giorno della sua vita questa è la legge di Dio in quanto rivela il meccanismo della donna e il tuo nobile privilegio le piace liberamente no in nessuna parte del mondo ovunque tu vada ne sei privo chi lo fa? il tuo vicino cioè leggi umane assumendo che la Bibbia sia davvero la parola di Dio vi darò un esempio della capacità di ragionamento che è il nome dell'invenzione diciamo che un uomo osserva una serie di fatti ad esempio che mai nella sua vita sarà in grado di soddisfare una donna single e che nel frattempo ogni donna sarà sempre capace di stancare abbassare e annullare le prime dieci macchine maschili che si mettono a letto con lei una volta raccolti questi dati tanto sorprendenti quanto illuminanti l'umano trae questa conclusione davvero straordinaria il creatore ha ideato la donna per restringerla a un solo uomo quindi trasforma questa singolare conclusione in legge e basta inoltre lo fa senza consultare la donna sebbene lei sia in gioco mille volte più di lui in questa faccenda l'attività procreativa dell'uomo è limitata a una media di 100 recite all'anno per 50 anni mentre la donna può arrivare a 3000 recite all'anno nello stesso periodo di tempo prolungandosi per tutti gli anni che gli sopravvive diciamo che la sua quota di vita è di 5000 snack mentre la sua è di 150.000 ma invece di permettere che una legge giusta e onesta si faccia a coloro che ne sono entusiasti questo maiale va e fa la legge è incommensurabile che non sia in gioco nulla degno di considerazione al momento sapevi dai miei insegnamenti che l'uomo è stupido bene ora sai che anche le donne sono stupide vediamo se tu o altri esseri veramente intelligenti doveste distribuire giustizia e uguaglianza tra uomini e donne daresti agli uomini un cinquantesimo di una donna e alle donne un intero harem sì o no certo necessariamente bene ti assicuro che questa creatura con la candela decrepita l'ha sistemata esattamente al contrario Salomone uno dei preferiti della divinità aveva un gabinetto di copulazione composto da 700 mogli e 300 concubine anche se la sua vita dipendesse da questo non avrebbe potuto soddisfare nemmeno con l'aiuto di 15 specialisti irrimediabilmente quasi mille donne hanno attraversato anni e anni di insoddisfazione immagina un uomo abbastanza spietato da vedere ogni giorno così tanta sofferenza e non fare nulla per mitigarla per nessun motivo aggiunse una fitta dolorosa a quella triste sofferenza poiché aveva sempre vigili vigili in giro con cui le splendide forme maschili facevano venire l'acquolina in bocca alle povere donzelle nel caso non lo sapessi un eunuco è una persona la cui candela si è spenta con raffinatezza con raffinatezza mentre continuiamo ad avanzare di tanto in tanto prenderò un procetto biblico e vi dimostrerò così come tutti gli altri come viola una legge di Dio da quel momento in poi è quando da quel momento in poi è quando è incluso nei codici delle leggi dei paesi umani dove continua i suoi oltraggi ma tutto questo verrà senza fretta lettera 9 l'arca continua il suo viaggio alla deriva qua là e là senza meta o in controllo in balia di burrasche improvvise e maree pericolose oh la pioggia la pioggia la pioggia continuava a cadere a fischiare a bagnare a piovere scrosciante nessuno aveva mai visto niente di simile alcuni avevano sentito parlare di 18 pollici al giorno ma non era niente ora cadevano 350 centimetri al giorno 3 metri a questa velocità incredibile piove per 40 giorni e 40 notti e tutte le montagne alte 130 metri furono sommerse dall'acqua quindi come se i cieli e persino gli stessi angeli si fossero prosciugati ciò era stato dato ed era finito come il diluvio mondiale era una cosa da poco ma c'erano già stati molti diluvi mondiali come attestano le bibie di tutti i paesi e questo era stato il migliore alla fine l'arca prese velocità e raggiunse la cima del monte Ararat che torreggiava per oltre 5.000 metri sopra una valle e il suo carico vivace sbarcò e discese dal monte Noè piantò una vigna beve il vino e fu saziato questo umano era stato scelto tra tutti i popoli perché era il miglior esemplare che ci fosse il suo compito era iniziare la razza umana su una nuova premessa e quella appunto era la nuova premessa ma non sembrava molto promettente andare avanti con l'esperimento significava correre un rischio tanto enorme quanto sciocco era giunto il momento di fare con queste persone quello che era stato fatto con tanta saggezza con gli altri a negarli chiunque tranne il creatore se ne sarebbe accorto ma non poteva vederlo piuttosto non si sa se l'abbia visto in ogni caso si dice che sapeva già dall'inizio dei tempi tutto quello che sarebbe successo nel mondo se questo fosse vero avrebbe previsto che Adamo ed Eva avrebbero assaggiato la mela che la loro prole sarebbe stata insopportabile e sarebbe stata annegata che anche la prole di Noè si sarebbe dimostrata insopportabile e che dopo aver lasciato il suo trono in cielo sarebbe finito per scendere nel mondo e si sarebbe lasciato crocifiggere per salvare ancora una volta l'estenuante razza umana tutta lei? no ah una parte? sì quale? perché per centinaia e centinaia di generazioni un miliardo sarebbe morto e avrebbe trovato il destino in ogni generazione tranne circa diecimila che sarebbero stati risparmiati quei diecimila parterebbero alla più piccola comunità dei cristiani e solo uno su cento avrebbe qualche possibilità di essere salvato all'interno di quel piccolo gruppo ma solo i cattolici avrebbero quella fortuna con un prete disposto a ravvivare le loro anime facendo l'ultimo respiro e l'occasionale presbiteriano nessun altro sarebbe stato salvato tutti gli altri dannati milioni di loro sei disposto ad accettare che lui sapesse tutto questo in anticipo il clero lo dà per scontato in altre parole ci assicura che in maniera intellettuale la divinità è il grande povero dell'universo e che la barra della moralità e del temperamento è molto bassa allo stesso livello di Davide lettera 10 i due testamenti biblici sono interessanti ciascuno a modo suo l'anziano ci presenta un ritratto del dio di queste persone come era prima di diventare religioso e l'altro che lo ritrae da quel momento in poi l'antico testamento si occupa principalmente di sangue e sensualità il nuovo si occupa di salvezza salvezza mediante il fuoco la prima volta che la divinità scese sulla terra portò con sé la vita e la morte quando è venuto la seconda volta ha portato all'inferno stesso se la vita non era un dono prezioso invece lo era alla morte la vita era un febbrile delirio di gioie amareggiate dalla tristezza e piaceri avvelenati dal dolore più che un sogno era una turbolenta reverì di gioie spasmodiche e fugaci estasi trionfali ed esultazioni felici intervallate da infinite disgrazie sofferenze minacce orrori delusioni fallimenti insulti e angosce vale a dire la più grande maledizione immaginabile dell'ingegno divino ma la morte ahimè la morte era dolce gentile e cordiale la morte alleviava gli spiriti lacerati e i cuori spezzati con il riposo e l'oblio la morte era la grande alleata dell'umano quando una persona si sentiva incapace di continuare a sostenere la vita la morte veniva come una liberazione ma nel corso del tempo la divinità ha deciso che si era sbagliato riguardo alla morte perché non era all'altezza vale a dire come agente non bastava perché anche se era ammirevole quando si trattava di tormentare il sopravvissuto permetteva ai defunti veri e propri di rifugiarsi da ogni persecuzione una volta sepolti nella tomba benedetta questo non è stato soddisfacente doveva essere scogitato un modo per inseguire i morti oltre la tomba la divinità rimuginò su questo argomento per quattromila anni infruttuosi ma non appena venne sulla terra e divenne un cristiano la sua mente si schiarì e seppe cosa doveva fare prima ha inventato l'inferno e poi l'ha annunciato la verità è che è curioso tutti credono che mentre era in paradiso Dio fosse severo ingiusto risentito geloso e crudele ma che quando scese sulla terra e prese il nome di Gesù Cristo divenne l'opposto di quello che era stato cioè divenne gentile cordiale misericordioso e paziente il suo carattere crudele scomparve e al suo posto germogliò l'amore intenso che provava per i suoi poveri figli umani ma fu come Gesù Cristo che concepì l'inferno e lo annunciò cioè come un umile e pio salvatore era miliardi di volte più crudele di quanto fosse stato nell'antico testamento ahimè era incompatibilmente più atroce che nei suoi peggiori momenti dei vecchi tempi umile e pio più avanti esamineremo questo sarcasmo popolare alla luce di quell'inferno che lui stesso ha inventato mentre è vero che Gesù merita la palma del male come inventore dell'inferno va ricordato che era già inadatto alle funzioni divine anche prima di divenire cristiano non sembra contemplare mai la possibilità di incolpare se stesso quando un uomo è stato viziato poiché l'uomo agirebbe secondo la natura che il capriccio divino gli aveva inflitto ma invece di incolpare se stesso ha punito l'uomo la punizione era usata per superare l'offesa e spesso non puniva la persona che aveva commesso il male ma piuttosto un altro essere umano importante il leader di una comunità vedi questo esempio e in quel tempo Israele abitava a Setim e il popolo si prostituiva con le figlie di Moab il signore disse a Mosè prendi tutti i capi del popolo e appendili al patibolo sotto il sole così che il mio furore si allontani da Israele lo consideri giusto non sembra che i capi del popolo abbiano preso parte all'adulterio ma sono loro piuttosto ad essere impiccati che il popolo se la punizione era considerata giusta e necessaria allora dovrebbe essere giusta e necessaria anche oggi perché il clero sostiene che la giustizia divina è eterna e immutabile e anche che Dio è il principio eterno e immutabile della moralità umana ebbene dobbiamo credere che se la gente di New York dovesse costringere le figlie del New Jersey a prostituirsi sarebbe giusto e necessario installare un'impalcatura davanti al municipio e impiccare il sindaco lo sceriffo i giudici e l'arcivescovo anche se non vi hanno partecipato onestamente non mi sembra giusto d'altra parte puoi essere abbastanza sicuro che qualcosa del genere non sarebbe mai accaduto queste persone non lo permetterebbero sono migliori della tua bibbia qui non sarebbe successo niente tranne la strana causa per danni se il caso non fosse stato coperto nemmeno nel sud del paese sarebbero in grado di attaccare le persone al di fuori della folla dotati di una corda uscivano alla ricerca dei responsabili e se non li trovavano impiccavano un nero le cose sono migliorate molto dai tempi dell'onnipotente qualunque cosa dica il clero vuoi esaminare ulteriormente la natura la morale e la condotta della divinità e ricorderai che nella classe di religione i bambini sono lodati per amare onorare e lodare l'onnipotente prendendolo come modello per cercare di somigliargli il più possibile bendetto 1 e il signore parlò a Mosè dicendo 2 venite prima dai figli di Israele e dai Madianiti e poi sarete radunati presso il vostro popolo dopo aver combattuto e vinto contro Madian uccisero tutti i maschi e il signore parlò a Mosè dicendo venite prima dai figli di Israele dai Madianiti e poi sarete radunati presso il vostro popolo dopo aver combattuto e vinto contro Madian uccisero tutti i maschi e i loro re e vi ressem sur hur rebe cinque principi della nazione hanno anche ucciso Balaam il figlio di Beor con la spada e presero le loro mogli i loro figli tutto il bestiame e tutti i mobili saccheggiarono tutto quello che potevano città villaggi e castelli furono consumati dalle fiamme e lo portarono a Mosè a sacerdote Eleazzaro e a tutta la moltitudine di figliuoli di Israele e portarono gli altri utensili all'accampamento nelle campagne di Moab presso il Giordano di fronte a Gerico Mosè e il sacerdote Eleazzaro e tutti i principi della sinagoga li incontrarono fuori dall'accampamento Mosè si addirò contro i capi dell'esercito i tribuni e i centurioni venuti dalla guerra ha detto perché avete donne riservate non sono loro quelli che su suggerimento di Balaam hanno ingannato i figliuoli di Israele e vi hanno fatto trasgredire contro il Signore per il peccato di Fogor per la cui causa anche il popolo fu ferito uccidete dunque tutti i maschi e perfino i bambini e massacrate le donne che conoscevano gli uomini nei rapporti ma riservate solo le ragazze e tutte le cameriere e resta sette giorni fuori dal campo chi è morto per un uomo o ha toccato colui che è stato ucciso si purificherà il terzo e il settimo giorno e tutto il bottino sia esso vestito o un vaso o qualsiasi cosa fatta di pelli o di pelo di capra o di legno che possa essere utile sarà purificata anche il sacerdote Eleazzaro parlò in questo modo agli uomini dell'esercito che avevano combattuto questo è il precetto della legge che il Signore aveva ordinato a Mosè il Signore disse anche a Mosè fai un inventario delle cose che sono state catturate da uomo a bestia tu il sacerdote Eleazzaro e i principi del popolo e dividerai il bottino in parti uguali tra quelli che combatterono e entrarono in guerra e tra tutta la folla rimasta e separerai una parte per il Signore da coloro che hanno combattuto e sono stati trovati in battaglia Mosè e Eleazzaro fecero come il Signore aveva comandato così era il bottino che l'esercito aveva preso di pecore 650.000 buoi 72.000 asini 71.000 donne che non avevano mai incontrato uomini 32.000 dalle 16.000 anime degli uomini 32 anime furono toccate per la parte del Signore Mosè dia del numero delle primizie del Signore a Eleazzaro sacerdote come gli era stato comandato Mosè prese una testa ogni 50 e la diede ai leviti che stavano di guardia al tabernacolo del Signore come il Signore aveva comandato se ti avvicini a una città le offrirai prima la pace e quando l'Eterno il tuo Dio lo darà nelle tue mani farai passare tutti i maschi che sono in essa fil di spada ma non alle donne né ai bambini alle bestie e alle altre cose che sono in città distribuirai tutto il bottino tra l'esercito e mangerai del bottino dei tuoi nemici che il Signore tuo ti darà in questo modo tratterai tutte le città che sono molto lontane da te che non sono di quelle città che devi ricevere in possesso ma per quanto riguarda le città che ti saranno date assolutamente nessuna ne lascerai viva la legge biblica dice non uccidere la legge di Dio impressa nel cuore dell'uomo sin dalla sua nascita dice ucciderai il capitolo che ho citato vi mostra che il precetto biblico fallisce ancora una volta non potendo ignorare la legge più potente della natura secondo la credenza di queste persone è stato Dio stesso a dire non uccidere quindi è chiaro che è incapace di osservare i propri comandamenti è stato lui a ordinare di uccidere tutte quelle persone tutti gli uomini in qualche modo avevano offeso la divinità e l'offesa sappiamo ciecamente di cosa si trattava cioè sappiamo che sarebbe una sciocchezza una piccola cosa a cui nessuno tranne un dio darebbe importanza è più che probabile che uno dei mandianiti stesse imitando la condotta di un Onan a cui era stato ordinato di entrare nella moglie di suo fratello cosa che fece ma invece di finire si era versato a terra ecco perché il signore ha ucciso Onan perché il signore non ha mai tollerato la mancanza di delicatezza così ha ucciso Onan e fino ad oggi il mondo cristiano non capisce perché si sia stabilito solo con Onan invece di uccidere tutti gli abitanti del raggio di 500 chilometri che erano innocenti di qualsiasi reato e quindi proprio quelli che dio usava per uccidere non per niente è sempre stata la sua idea di un trattamento equo se avesse avuto un motto sarebbe stato nessuna persona innocente scappi ricorda cosa fece al tempo del diluvio c'erano tanti tanti bambini piccoli che non avevano mai fatto niente ma sapeva che i parenti dei bambini erano colpevoli e questo gli bastava imperterrito vide le acque sollevarsi per inondare le tremanti labbra del neonato vide il terrore che appariva nei loro occhietti vide i volti angosciati di madri le cui suppliche avrebbero ammorbidito qualsiasi cuore tranne il suo ma era comunque determinato a punire gli innocenti così che doveva annegare quei poveri ragazzi ricorderai che nel caso della progenie di Adamo c'erano miliardi di esseri umani innocenti poiché nessuno di loro ha partecipato a quel primo errore ma la divinità continua a dargli la colpa fino ad oggi nessuno riesce a cavarsela se non dichiarandosi colpevole non c'è una piccola bugia che valga la pena alcuni madianiti devono aver ripetuto l'atto di onan facendo cadere il suo popolo in completa disgrazia e se non è stata la mancanza di delicatezza a far infuriare la divinità allora so cos'è successo qualche madianita deve aver pisciato su un muro ne sono certo perché è una di quelle maledizioni che il manuale della divina cortesia non ha mai tollerato una persona può fare pipì su un albero in cima a sua madre o nei suoi pantaloni e non succede nulla ma non pensare di fare pipì su un muro perché è troppo fuori linea l'origine del pregiudizio divino contro questo minuscolo crimine non appare ma sappiamo che si trattava di un pregiudizio molto forte tanto che la divinità fu placata solo con un massacro totale degli abitanti della regione in cui il muro era stato contaminato prendi il caso di Gerobo e dalla casa di Geroboamo distruggerò colui che ha pisciato sul muro così è stato ma non solo l'uomo che l'aveva fatto ma tutti i suoi parenti la stessa cosa è successa a casa di Baza sono stati sterminati tutti parenti amici tutti senza che ne sia rimasto uno a pisciare sul muro la storia di Geroboamo è un buon esempio dell'usanza della divinità di non limitare le sue punizioni ai colpevoli e di includere sempre gli innocenti in questo caso tutti i residui di quella sfortunata casa sono stati rimossi poiché il letame di solito viene spazzato fino a quando non rimane traccia ah ciò include cameriere e ragazze e donne tutte innocenti poiché non avrebbero potuto pisciare sul muro le persone del tuo sesso non possono solo i membri dell'altro sesso sono capaci di una simile impresa curioso pregiudizio questo ed esiste ancora le famiglie protestanti tengono ancora la bibbia portata di mano a casa perché i loro figli possono studiare una delle prime cose che le ragazze e i ragazzi imparano è di essere giusti e puri di non fare pipì sul muro questi sono i passaggi che studiano di più insieme a quelli che incitano alla masturbazione questi ultimi li cercano e li studiano in privato non c'è bambino protestante che non si masturba questa arte è uno dei primi benefici che ti dà la sua religione è anche una delle prime che questa religione concede alle ragazze la bibbia ha un vantaggio su tutti gli altri libri che insegnano raffinatezza e buone maniere e cioè che il bambino ce l'ha portata di mano così affonda profondamente nella sua mente nell'età più suscettibile e incline mentre il resto dei libri deve aspettare avrai un paletto nella cintura e dopo che ti sarai deposto scaverai e coprirai con la terra di cui hai rimosso ciò da cui hai sollevato questa regola è stata inventata in quel momento perché il signore tuo cammina in mezzo al tuo campo probabilmente non vale la pena cercare di scoprire con certezza perché i madianiti furono sterminati possiamo solo essere sicuri che non sarebbe una grande offesa come ci mostrano i casi di Adamo il diluvio e le macchie sul muro forse qualche madianita lascerebbe il rogo a casa provocando il disastro ma non è importante ciò che è fondamentale è il disastro stesso e le varie moralità che offre per l'istruzione e il miglioramento del cristiano oggi Dio ha scritto sulle tavole di pietra non uccidere e anche non fornicare Paolo messaggero della voce sacra consigliò addirittura di astenersi completamente dai rapporti sessuali un'intera trasformazione della prospettiva divina rispetto ai tempi in cui accadde l'incidente dei madianiti lettera 11 ogni epoca della storia umana è macchiata di sangue tormentata dall'odio e punteggiata di crudeltà tratti che sin dai tempi biblici non hanno conosciuto limiti anche la chiesa che da ieri ad oggi ha versato più sangue innocente di tutte le guerre politiche messe insieme ha un limite o qualcosa come un limite ma ricorda che quando il signore Dio del cielo e della terra l'adorato padre degli umani va in guerra non c'è limite colui che chiamano la fontana della misericordia è assolutamente privo di misericordia la sua cosa è uccidere 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 uccidi ogni uomo bestia giovane o bambino e anche a ogni donna o ragazza tranne quella che non è stata deflorata non ci sono distinzioni tra l'umano innocente e il colpevole innocenti erano i neonati le bestie molti uomini molte donne molti ragazzi molte ragazze tutti innocenti che però hanno dovuto soffrire accanto ai colpevoli ciò che il pazzo padre richiedeva era sangue e dolore non gli importava chi glielo fornisse la peggiore punizione di tutte è stata presa da persone che non potevano in alcun modo meritare un destino così terribile le 32.000 vergini per assicurarsi che avessero ancora il loro imene intatto hanno esaminato le loro parti intime dopo averli sottoposti a questa umiliazione li hanno portati fuori di casa per essere venduti come schiavi condannandoli alla schiavitù peggiore e più vergognosa la prostituzione vale a dire quella schiavitù del letto che fa sì che la lussuria si soddisfi con il proprio corpo quella schiavitù a disposizione di qualsiasi acquirente da un gentiluomo a un rozzo e sordido ruffiano sì era il padre che infliggeva una punizione così crudele e immeritata a quelle vergini affrancate e abbandonate i cui genitori e parenti aveva ucciso sotto i suoi occhi e loro nel frattempo lo pregherebbero implorandolo di avere pietà e di salvarli senza dubbio ma le vergini erano considerate bottino saccheggi voleva la sua parte e l'ha ottenuta a che cosa servivano le vergini per lui continua a leggere e lo saprai i sacerdoti di dio tenevano anche un gruppo di vergini e ai sacerdoti a che cosa servivano le vergini la storia privata della confessione cattolica risponderebbe a questa domanda in tutta la storia della chiesa il grande divertimento del clero è stato la seduzione l'appostata padre Giacinto Loison testimonia che su cento sacerdoti a cui aveva confessato 99 avevano utilizzato con successo il confessionale per sedurre giovani donne sposate e single un prete rivelò che delle 900 donne adulte e giovani a cui aveva confessato per tutta la vita nessuna si era liberata del suo tocco lussurioso tranne le vecchie e le brutte l'elenco ufficiale delle domande che ogni sacerdote pone ecciterà in un numero schiacciante di casi qualsiasi donna che non si sia paralizzata in tutta la storia umana prima e dopo la civiltà non c'è evento così clamoroso spietato e implacabile come la campagna del padre della misericordia contro i madianiti la versione ufficiale non fornisce fatti concreti episodi o piccoli dettagli le informazioni riguardano sempre grandi folle tutte le vergini tutti gli uomini tutti i bambini tutte le creature che respirano tutte le case tutte le città bruciate e desolate una catastrofe che si estende qua la e là a perdita d'occhio durante la lettura la nostra immaginazione porta a una cupa immobilità un silenzio inquietante il silenzio della morte ma sembra ovvio che molte cose sarebbero accadute come possiamo sapere cosa erano dobbiamo passare alla storia più recente cioè la storia degli indiani nordamericani l'indiano ha duplicato l'opera di dio con lo stesso fervore nel 1862 gli indiani del Minnesota fortemente offesi e traditi dal governo degli stati uniti insorsero contro i coloni bianchi e li massacrarono vale a dire hanno ucciso ogni persona che è caduta nelle loro mani senza distinzione di sesso o di età presta presta attenzione a questo evento 12 indiani entrarono in una fattoria all'alba e catturarono la famiglia composta dal contadino sua moglie e quattro figlie la più giovane di 14 anni e la più vecchia di 18 i genitori furono crocifissi cioè furono posti nudi contro il muro del soggiorno e le loro mani furono inchiodate al muro poi hanno spogliato le figlie e le hanno deposte a terra davanti ai loro genitori e le hanno violentate ripetutamente le ragazze sono state poi crocifisse al muro di fronte ai loro genitori e poi hanno avuto il naso e il petto tagliati inoltre non entrerò nei dettagli tutto ha un limite ci sono umiliazioni così atroci che la penna si rifiuta di scriverle e ti dirò che quando vennerò il loro soccorso due giorni dopo solo un membro della povera famiglia crocifissa il padre era ancora vivo bene conosci già un episodio del massacro del Minnesota potrei raccontarti altri 50 casi che comprendono tutte le varietà di crudeltà inventate da atroci talenti umani e ora sapete da queste verità inequivocabili cosa accade sotto la direzione personale del padre delle misericordie nella sua campagna contro i Madianiti la campagna del Minnesota era un semplice duplicato dell'attacco ai Madianiti in un caso non è successo niente che non sarebbe successo nell'altro beh forse non è del tutto vero l'indiano era più compassionevole del padre della misericordia non vendeva vergini come schiave per soddisfare a vita la concupiscenza dei sinistri carnefici delle loro famiglie l'indiano li violentò ma misericordiosamente accorciò le loro sofferenze con il dono inestimabile della morte case bruciate ma non tutte ha rubato animali innocenti ma non si è tolto la vita si può fare finta che questo dio senza coscienza questo insolvente morale sia un insegnante di moralità bontà sottomissione rettitudine e purezza sembra una stravaganza impossibile ma ma ascolta queste sono le sue parole beati i poveri di spirito perché in essi è il regno dei cieli beati gli umili perché possederanno la terra beati quelli che piangono perché troveranno conforto beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché otterranno misericordia beati i puri di cuore perché vedranno dio beati i pacifici poiché saranno chiamati i figli di dio beati coloro che subiscono persecuzioni per la giustizia perché di loro è il regno dei cieli beati voi quando vi maledicono e vi perseguitano e dicono tutto il male contro di voi mentendo per amor mio le labbra che hanno pronunciato questi enormi sarcasmi queste gigantesche ipocrisie sono le stesse che hanno ordinato il massacro indiscriminato di uomini donne bambini e bestiame del popolo madianita la distruzione indiscriminata di case e città il destino indiscriminato delle vergini convertite alla schiavitù più perversa è indicibile è lo stesso essere che ha inflitto ai madianiti le diaboliche crudeltà che gli indiani avrebbero ripetuto fino all'ultimo dettaglio nel Minnesota diciotto secoli dopo l'episodio dei madianiti lo riempì di gioia anche quello del Minnesota o lo avrebbe impedito le beatitudini e i capitoli citati dal libro dei numeri e dal deuteronomio dovrebbero sempre essere letti insieme durante la messa così i fedeli avrebbero un'idea completa di com'è il nostro padre celeste ma non conosco nessun prete che abbia mai fatto qualcosa del genere le note della famiglia di Adamo diario di Matusalem primo giorno del quarto mese dell'anno 747 dell'inizio del mondo oggi ho 60 anni essendo nato nell'anno 687 di inizio del mondo è venuto a trovarmi un parente che prega per me di sposarmi e di non lasciare la famiglia senza figli ma sono ancora giovane per un tale impegno anche se mio padre Enoch mio nonno Jared mio nonno Mahalel il mio bis bisnonno Caino hanno preso moglie a ognuno di loro a un'età simile a quella che ho appena raggiunto ora hanno tutti parlato di me e concordano nel volermi sposare come primo genito di mio padre che sono ed erede del maniero a tempo debito e ultimo proprietario delle città dei principati e delle dignità che gli corrispondono quando vuole agli dèi di chiamare in futuro quegli eredi e parenti più anziani che ancora vivono e si trovano tra me e questi altri onori giorno decimo ho inviato diversi saggi nei rispettivi paesi con il loro entourage e i miei doni poiché non ho più bisogno di insegnamenti poiché ho finito la mia giovinezza e ho varcato la soglia dell'età adulta al saggio Uz che viveva nella lontana terra del Nod nell'antica città di Enoch ho dato un centurione e una truppa di valorosi guerrieri abbattuti dai miei stessi guardiani per proteggere lui e la sua carovana dai figli di Jabel che popolano i luoghi di passaggio nel deserto la sua pronipote Sela è rimasta a casa del suo parente Habakuk felice di poter prolungare la sua visita e l'oro di ospitarla una fanciulla di bell'aspetto e modesta giorno diciottesimo è l'anniversario della costruzione della città possa la prosperità accompagnare Aumrat e coloro che vivono tra le sue mura il mio bisnonno Mahalel che pose la prima pietra 300 anni fa ricevette i signori della guerra seduti maestosamente in cima al tempio dove lodò la grandezza la forza il potere e lo splendore dei suoi possedimenti della città disse di aver visto la prima casa costruita e di aver assistito al progresso da quel piccolo inizio fino ad oggi quando copre già i cinque colli e le valli che li separano con una popolazione che nessun uomo può contare una città davvero colorata con diversi templi e palazzi dalle robuste mura strade che sembrano non finire mai e case tutte in pietra la prima casa è caduta quando era vecchia anche se molti la visitano con rispetto e nessuno può danneggiarla ma arrivano molti sciocchi stranieri da altri luoghi con la vana abitudine di incidere i loro nomi sulla pietra accanto al luogo remoto da cui provengono che è una semplicità che contraddistingue un cretino che lo fa ventiquattresimo giorno oggi davanti alla corte di mio padre sono comparsi diversi illusionisti uno dei quali ha mangiato il fuoco mettendosi delle braci in bocca masticandole con i denti e inghiottendole ha anche bevuto benzina ardente senza tradire alcun disagio ma anzi fame e gioia un altro di loro ha coperto un bambino con un cesto e lo ha pugnalato con una spada che ha estratto sangue gocciolante mentre il bambino gridava capovolgendo il cesto il bambino era scomparso e anche il suo sangue ma questi sono vecchi trucchi e di scarso valore uno dei maghi ingoiò una spada deformata più lunga del braccio di un uomo era un gentiluomo con una voce dolce buone maniere ma avrei voluto che le sue viscere si aprissero per porre fine a questi divertimenti perché in presenza di mio padre né io né nessun altro possiamo sederci o andarcene mentre lui non lo fa ma era felice e veramente in soggezione il che è una conseguenza del trascorrere molto tempo in ritiro e studio e poco per vedere cosa succede fuori casa in verità questi antichi divertimenti suscitarono una tale ammirazione che nessun idiota dall'esterno sarebbe stato in grado di superarli poi mio padre è andato a teatro con grande sfarzo e accompagnato dalla corte tutti vestiti con i loro abiti migliori questo nuovo attore Luce la cui fama ha conquistato il paese negli ultimi tempi ha così abbagliato la folla nel ruolo principale di Adam in The Expulsion from Eden un classico illustre venerabile che non ha uguali in questi tempi moderni che tutti hanno singhiozzato ad alta voce hanno gridato e si sono alzati in piedi così tante volte che sembrava che non si sarebbero mai fermati Giabelle il vivace fratellastro del mio bis 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 nonno Enos entra in queste inarcando le sopracciglia e guardando mestamente da una parte e dall'altra del pubblico come per dire oh cielo questo fa teatro? è sempre lo stesso niente sembra piacergli tranne tutto ciò che è vecchio e sciocco ciò che ha visto e altri no tutto ciò che è moderno sembra banale e pigro senza divertirsi né permettere ad altri di farlo spesso tiene conferenze lunghe e dure in un tono presuntuoso e pomposo su quanto fosse grande il teatro in altri tempi prima di questo tempo degenerato dicendo diavolo quando viveva il grande Osiel quello era un Adamo santo cielo quando quelli di noi che hanno visto un buon teatro guardano indietro e ricordano com'era la scena quattro o cinquecento anni fa allora è così rapito dalle sue stesse sofferenze dalle sue audaci vanterie e dalle sue prodigiose bugie che uno vorrebbe vederlo tra i suoi idoli scomparsi e ringrazierebbe Dio che sia stato così quanto sono pesanti queste persone amareggiate sdentate e vecchie che vivono per nessun altro motivo a quanto pare se non quello di strofinarsi il naso con le meraviglie sopravvalutate di tempi dimenticati che nessuno tranne loro ricorda la vecchiaia ha il suo fascino ma questo non è uno di loro e glielo avrei detto in poche parole davvero se una procedura del genere non fosse insolita per la mia giovane età e la mia barbarada ventisettesimo giorno oggi Suar un mio schiavo si è prostrato davanti a me ricordandomi umilmente che sono passati sei anni da quando l'ho comprato da suo padre dopo aver chiamato il mio amministratore mi ha mostrato che era così essendo un ebreo non posso tenerlo e gli ho detto che sono stato liberato dalla schiavitù poi si è inchinato di nuovo quasi fino a terra dicendo mio signore ho moglie e figli a cui io senza pensarci lo farei ho detto lascia che vengano anche loro ma il mio manager inginocchiandosi ha gridato oh principe non posso non fare il mio dovere per quanto difficile possa essere non l'hanno fornito quando è stato acquistato da te sua eccellenza ha concesso la moglie e i figli sono nati schiavi tutto ciò mi preoccupava perché non conoscendo bene i miei affari non avevo avuto esperienza di un caso simile ma dissi bene se è così così sia dagli soldi e vestiti e lascialo uscire di casa da solo ma si gentile con sua moglie e i suoi figli che non saranno venduti o subiranno difficoltà poi suar si alzò in piedi e dopo aver salutato se ne andò rannicchiato come qualcuno che soffre un grande dolore non ero stato calmo nonostante avessi obbedito alla legge ho preferito che fosse altrimenti sono andato a trovarli da solo impedendo alle mie guardie di accompagnarmi e li ho trovati l'uno nelle braccia dell'altro in silenzio con i volti di pietra e senza versare una lacrima intorno alle ginocchia i bambini chiacchieravano rimproverando una farfalla che uno di loro aveva catturato sono tornato a casa mia disincantato dalla vita cosa strana essendo loro solo schiavi polvere sotto i miei piedi devo pensare di più a questo argomento giorno 28 queste povere creature sono venute a trovarmi Suar il cui volto afflitto contrastava con le sue parole disse mio signore secondo l'uso e usanza della legge vengo a dichiarare che amo il mio signore come amo mia moglie e i miei figli quindi mi rifiuto di restare sulla libertà pertanto chiedo che davanti ai giudici mi fuorino l'orecchio con un punteruolo in modo che io possa tornare con la mia famiglia alla schiavitù eterna perché quella o la morte stessa è meglio che essere separato da quello che sono per me più del mio pane quotidiano o la luce del sole o il respiro che dà la vita non so se avevo ragione ma non avevo il cuore di sopportarlo ecco perché gli ho detto è una legge dura e crudele andate liberi tutti voi e così mi libererò dei miei rimpianti lavorava con servitori di valore ma prego dio che non me ne rammarica perché la mia proprietà è così grande e opulenta che alla fine si sta sbarazzando di una minuzia quinto mese terzo giorno non sopporto la principessa Sara la nipote della mia parente Elaia non importa quanto sia ricca importante e vecchia la casa a cui appartiene non la sposerò a meno che mio padre non mi costringa tre giorni fa Sara è tornata con un numeroso entourage di nobili e schiavi minori per trascorrere qualche giorno nel palazzo di mio padre che è vicino al mio nuovo la suddetta ha quasi la mia età anche se è un po' più vecchia ma preferirei che fosse un po' più giovane dato che ha appena compiuto 61 anni signore alla sua età dovrebbe essere rosea e allegra ma ha la serietà di una matrona un aspetto vecchio stile e la pelle giallastra finge di passare per saggia e istruita e persa nella sua arroganza cammina con il naso all'insù a dio piacendo che il suo tronco non gli si impigli in un ramo di un albero e si blocchi il che potrebbe accadere come è disegnato in questi a volte porta i capelli acquistati al bazar sulla testa insieme a quelli che la natura gli ha dato per tenergli compagnia se fosse consuetudine aumentare il naso nella stessa proporzione che ci ha dato la grazia divina allora mi chiedo cosa farebbe questa donna ovunque vada trascina al guinzaglio un cane di lana insopportabile mentre si siede lo mette sulle ginocchia e lo accarezza senza fermarsi quando fa freddo copre l'animale con un panno rosso ricamato in modo che non prenda raffreddore o febbre e il mondo intero ne soffre la perdita ma le dico il giorno in cui potrò essere l'erede di quella casa e dovrò lasciarmi amare dal suo proprietario amen quinto giorno mentre camminavo nel cortile delle fontane Suar e sua moglie e Mayla sono venuti e si sono prostrati davanti a me per fare una richiesta i miei tutori volevano trattarli duramente per aver interrotto il mio ritiro e le mie meditazioni ma non l'ho permesso perché essendo stato compassionevole verso di loro ho preso un certo affetto per loro quello che volevano era che li includessi nel mio corpo a casa cosa che ho fatto anche se è curioso che creature della loro specie per quanto semplici accettino di implorare qualcuno della mia categoria di persona ho mandato Mayla a lavorare negli alloggi delle donne e voglio che Suar rimanga al mio fianco come page master darò ad entrambi un buon stipendio che mi hanno ringraziato moltissimo non avendo né previsto né aspirato ad avere tanta fortuna verso mezzogiorno ho visto la ragazza Sela passare davanti alla porta principale del palazzo con una sola cameriera perché sono persone di rango civile e senza proprietà proprie il suo trisavolo Huss era un grande saggio ma i suoi antenati non avevano alcuna categoria erano idolatri adoratori di Baal soggetti per legge e determinati requisiti e limitazioni di privilegio questa ragazza è molto bella molto di più a dire il vero di quanto mi fosse sembrata fino ad ora giorno decimo l'intera città è scesa in strada arrampicandosi sui muri sui tetti e nei luoghi con buona vista per vedere i selvaggi nuovi arrivati in città sono della famosa tribù di già beliti che non vivono in case ma in tende e vagano in orde senza legge attraverso i grandi deserti dell'estremo nord-est vicino alle terre di Nod queste orde erano in numero di venti con capi di importanza da maggiore a minore e molti servi tutti montati su cammelli e dromedari era una sorta di chimerica cerimonia barbara per rendere omaggio a mio padre e concordare un patto di pace con il quale avrebbero ricevuto merci ninnoli e attrezzi agricoli che promettevano loro di lasciare libere le strade e di non disturbare le nostre carovane e mercanti una visita come questa ci viene fatta solo una volta ogni 50 o 60 anni poi se ne vanno rompono l'accordo e di nuovo provocano alterchi tuttavia non è sempre possibile e biasimarli accettano di andare a vivere nelle terre loro assegnate e di sopravvivere rispettando la pace ma gli uomini inviati a governarli li tradiscono e li minano mandandoli in altre regioni peggiori rubando la loro terra per la semina e la caccia maltrattandoli a colpi se resistono poi si alzano nel cuore della notte e massacrano tutti quelli che cadono nelle loro mani vendicandosi come meglio possono per il tradimento e il dominio dei leader stranieri allora i nostri eserciti caricano per portare la desolazione nelle loro case ma non possono chi è venuto oggi ha girato la città vedendone le meraviglie ma senza mai gridare o mostrare in alcun modo la propria ammirazione al ricevimento entrambe le parti hanno tenuto discorsi infuocati e si sono intrattenuti prima di licenziarli e carichi di doni in particolare attrezzi agricoli che trasformeranno in armi da lanciare contro i loro persecutori sono persone dalla faccia feroce uno spettacolo barbaro che vale la pena vedere ma sia loro che le altre tribù della loro specie mettono in conflitto mio padre e il suo consiglio poiché sono senza Dio quando inviamo loro un missionario autentico per mostrare loro la via ascoltano rispettosamente le loro parole e poi mangiano l'inviato questo tende ad ostacolare la diffusione della nostra luce divina annotazioni successive del diario di matusalen giorno decimo non ci vuole molto a guidare le persone che sono deboli con una novità guarda sono passati appena due anni da quando un antico gioco della palla è stato resuscitato e le bocche di tutti si riempiono di frasi che ne descrivono le parti e i movimenti tanto è vero che gli uomini saggi e le persone che tendono a occupare la loro mente in questioni più importanti le loro orecchie risuonano di così tante chiacchiere fino a quando non finiscono per dolere di pura angoscia se un uomo inganna il suo vicino con un trucco che lo avvantaggia a scapito del vicino la gente comune dice del perdente che è stato colto in fallo se una persona ottiene un forte e improvviso trionfo di qualsiasi tipo si dice che abbia fatto una tripla se una persona fallisce miseramente in una compagnia di alto livello sentirai questo detto da lui just but cacolat oggi per ordine di mio padre questo gioco è stato giocato nel grande cortile del suo palazzo come si faceva tre secoli fa nove uomini con i polpacci ricoperti di rosso hanno gareggiato contro altri nove in leggings blu molti degli uomini vestiti di blu erano accovacciati a una certa distanza l'uno dall'altra i palmi sulle ginocchia a guardare hanno chiamato queste basi e giocatori sul campo perché dio lo saprà non è una questione per me una delle gambe rosse rimaneva in piedi agitando una mazza sopra la testa che ogni tanto cadeva a terra per farla oscillare di nuovo dietro di lui si accovacciò una delle gambe blu che spuntava molto tra le sue mani e chiamò un ricevitore accanto a lui era piegato un uomo chiamato arbitro vestito per la strada con abiti d'epoca che segnava per terra con un bastone ma senza fare nulla di chiaro a quanto vedevo diceva ball poi una delle gambe blu ha lanciato la palla con una forza enorme verso quella con la mazza in mano ma non poteva farlo cadere perché mancava la mira poi tutti i cosiddetti playmaker e i giocatori sul campo si sputtavano sulle mani si accucciavano e fissavano di nuovo quello con la mazza ha sopportato più volte di essere lanciato addosso la palla ma ha sempre piegato il corpo dentro e fuori per salvarsi mentre gli altri gli sputtavano sulle mani e cercavano di distruggere l'arbitro con la mazza senza successo nonostante i suoi gesti ardui ma dopo un po' è stato fortunato ed è riuscito a uccidere l'arbitro cosa che mi ha fatto molto piacere anche se è caduto lui stesso più tardi quando non è riuscito a evitare la palla che alla fine gli ha rotto il cranio con mia grande soddisfazione e gratitudine che alla fine gli ha rotto il cranio con mia grande soddisfazione e gratitudine dando per scontato che questa fosse la fine della partita chiese a mio padre il permesso di uscire e lo ricevetti anche se tutti quelli che erano accanto a me rimasero seduti in attesa di vedere cadere gli altri giocatori ma ne ho abbastanza e non rivedrò più quello sport in cui i buoni tiri arrivano sempre troppo tardi il che rende il gioco non divertente inoltre anche Echebel era tra il pubblico pieno di disprezzo per questi giocatori moderni e si vantava dei coraggiosi nove che incontrò 300 anni fa morti e marci grazie a Dio che fa tutto bene giorno dodicesimo durante questi vent'anni si è udita con crescente forza la voce che il patriarca della nostra casa reale e padre di tutti i popoli del mondo il nobilissimo augusto e venerabile Adamo che la pace sia con lui desidera visitare a mio padre in questa sua capitale ebbene non è più una voce ma una certezza mentre scrivo la tua ambasciata viene qui per portarci notizie estremamente grande è la gioia della città piena di gioia e gratitudine mio padre ha ordinato alla sua prima segretaria di prendere gli accordi necessari giorno tredicesimo oggi sono venuti alcuni uomini fidati a dirci che l'ambasciata ha soggiornato nell'oasi di Balca 18 giorni di viaggio verso sud giorno quattordicesimo nulla viene detto tranne la buona notizia e l'ambasciata all'alba gli emissari di mio padre partirono in tutto il loro sfarzo portando doni d'oro e pietre preziose spezie e abiti formali una truppa scintillante fece sfilare i suoi vessilli davanti a me al suono della loro musica marziale finché non fui stufo della loro folla e del loro trambusto era impossibile enumenare la folla che si accalcava sui tetti o che urlava dietro di loro oggi è un grande giorno quindicesimo giorno mio padre ha fatto addobbare il Palms Palace per onorare l'ambasciatore che verrà con il suo entourage 800 artigiani e artisti sono stati incaricati di dipingere dorare e restaurare sedicesimo giorno visita al museo per vedere gli indumenti in foglia di fico e le strane pelli non conciate che i nostri genitori in Eden usavano ai vecchi tempi e anche la famosa spada che gettava fiamme nelle mani del cherubino proprio ora che la città è affollata si dice che il museo abbia malapena posto per qualche migliaio di persone visto che la folla ogni giorno chiede a gran voce di entrare per vedere le reliquie per guardare quello che guarda la gente comune sentire quello che sente e non trasformarmi in un intrattenimento strordito dalle lusinghe ricevute da quelli della mia classe e condizione sono venuto travestito da semplice mohac senza la zavorra nemmeno di uno schiavo centinaia di guide hanno visitato le spaziose stanze dando alle truppe avide una spiegazione delle meraviglie raccolte lì da quello che ho potuto vedere non mostravano la merce a caso ma in una sequenza rigida accompagnata da un discorso che a forza di ripeterlo era diventato un susseguirsi immutabile di parole secche spietate prive di ogni naturalezza e sentimento come se fossero stati creati da una macchina l'uomo che stavo seguendo era al suo posto da 400 anni ridacchiando lo stesso discorso a giorni alterni dopo tanto tempo la sua mascella non lo possiede più la quale una volta iniziato il discorso resta in balia di Dio l'unico capace di fermarlo la retorica e le sciocche parolacce che un tempo avrebbero potuto essere vistose in questa occasione ci hanno quasi fatto ridere o piangere di pietà per la loro semplicistica sbadataggine povero vecchio cretino tre volte l'ho interrotto per metterlo alla prova ed era proprio come avevo immaginato gli ho fatto perdere il filo e ha dovuto ricominciare dall'inizio la cosa è andata così diceva ecco un'arma terrificante un sinistro ricordo di quel fatidico giorno i cui ardevano i fuochi ardenti la cui pallida luce bagnava le oscure pianure dell'Eden poi interrompendolo gli ho chiesto un pezzo enorme etichettato la copia implementata della chiave del paradiso il cui originale si trova nella casa del tesoro di Caino nella lontana città di Enoch con la faccia piena di sgomento la vecchia guida cercò una risposta ma dopo aver fallito più e più volte cercò di tornare al luogo in cui aveva lasciato il suo deplorevole discorso non riuscendo a farlo si ritirò ancora una volta e ripetè con voce aspra ecco un'arma terrificante un sinistro ricordo del fatidico giorno in cui ardenti fuochi ardenti la cui pallida luce bagnava le oscure pianure dell'Eden ma vedendo segni di scherno e di derisione tra la folla si voltò con rabbia verso di me dicendo anche se sono di basso rango e professione modesta solo un uomo di rango mohack è sfacciata giovinezza in grado di svergognare un vecchio della mia età con quel ghigno prigioniero di rabbia perché non avevo mai ricevuto un insulto prima stavo per dirgli per legge chi offende un membro della casa reale gioca la sua testa ma mi morsi la lingua e non parlai deciso a crocifiggerlo in un'altra occasione insieme a tutta la sua famiglia nel frattempo era difficile per me vedere cosa c'era di così curioso nelle foglie di fico in modo che le persone non distogliessero gli occhi da loro inoltre non sono foglie in quanto tali ma piuttosto scheletri del cui tessuto disintegrato rimangono solo costole o vene i beffardi dicono che non ci mancheranno le vesti originali del paradiso finché cresceranno fichi e ci saranno animali con i quali possiamo rinnovare i nostri sacri tesori quanto a me non ne parlo è il più discreto ma sono costretto a ricordare che oggi abbiamo in ognuna delle sette città l'unica vera spada del fuoco dell'espulsione del paradiso questo fa dubitare in quel momento è comparso l'amato idolatra con la sua folla di visitatori e io mi sono ritrovato immerso nella folla mentre ero distratto ho iniziato a sognare ad occhi aperti e perso il mio entusiasmo per le meravigliose meraviglie che mi circondarono sono tornato a casa ventesimo giorno prego Dio che l'ambasciata ci mandi presto o la gente non saprà come trattenersi se parla poco di tutto tranne che della grande cerimonia e dei suoi preparativi tuttavia passeranno giorni prima che queste speranze portino frutto ventisettesimo giorno lascia morire le generazioni di Yubal sbiadì la mano che non si fermò dopo aver inventato l'illustre organo e l'elegante arpa ma dopo aver rinchiuso un demone inquieto in una scatola concesse ai vagabondi il privilegio di schiacciarlo con una manovella e diede alla sua angoscia in gabbia il nome di musica questa nuova invenzione che non ha raggiunto il secolo di esistenza si è diffusa ovunque come una pestilenza tant'è che oggi in tutte le città si vedono vagabondi provenienti da paesi strani toccare queste orribili scatole innamorate e in compagnia di una scimmia sarebbero sopportabili se la musica fosse varia ma sfortunatamente sembrano suonare solo una melodia che doveva essere in grande stile trent'anni fa e non sembrava destinata a scomparire finché il mondo non sarà negato in quel ridicolo diluvio che i beati sciocchi con la cattiva bile predicono ogni tanto sembra che con lo splendore della città la nostra schiera di musicisti stravaganti sia aumentata enormemente tanto che ora abbiamo 80.000 che suonano incessantemente quella canzoncina lacrimosa chiamato Ai dai un bacio a Jagag e da sua madre in verità questa stagione si sta rivelando insopportabile per me anche se condannassero Jagag all'inferno non starei calmo perché mi fa infuriare pensare che dal giorno in cui è nato ha portato questa maledizione su di noi secondo giorno del settimo mese dell'anno 747 ieri finalmente sono arrivati i nostri emissari accompagnati dall'angusta ambasciata e mio padre è uscito a salutarli con grande sparzo alle porte della città formidabile è stato il corteo curioso gli abiti attenti e tutto ciò che vale la pena vedere la città era pazza di gioia non aveva mai visto niente di simile in quel trambusto in tutta la sua vita case palazzi e strade furono lasciate illuminate tutta la notte coloro che guardavano la città dalle vette orientali dissero che sembrava una valle incastonata di pietre preziose che scintillavano di un bellissimo splendore l'ambasciatore ha portato notizie e non ci sono più dubbi Adamo verrà davvero la data è già fissata l'anno 787 o quello successivo è stato fatto un annuncio pubblico e l'intera città grida la sua gioia gli ordini di mio padre sono stati inviati per iniziare i preparativi per un evento così maestoso oggi inizieranno i giochi e altri intrattenimenti per onorare l'ambasciatore mio padre ha annunciato che la città sarà in festa durante i due mesi che durerà questa autobiografia Eva amore pace conforto gioia inesauribile tutto ciò era la vita nel giardino essere vivi è stato un piacere non c'era dolore debolezza o disturbi che hanno segnato il volo del tempo malattia ansia tristezza si sapeva che esistevano fuori ma non nell'Eden non c'era posto per queste cose non sono mai entrate ogni giorno sembrava lo stesso tutto un dolce sogno molti erano i nostri hobby perché avevamo il candore di un bambino ignorante la nostra ignoranza era tale che oggi sarebbe inconcepibile non sapevamo niente proprio niente partivamo dal fondo di tutto dall'inizio dovemmo imparare l'alfabeto del mondo oggi un bambino di 4 anni sa cose che noi non avendo insegnanti né tutori abbiamo continuato a ignorare a 30 anni nessuno ci ha mai spiegato niente senza un dizionario era impossibile sapere se avevamo usato correttamente una parola oppure no ci piacevano le parole lunghe e ora so che le usavamo spesso per la loro risonanza o confezione anche se ignoravamo completamente il loro significato dal punto di vista ortografico quello era uno scandaloso dissoluto ma dal momento che non ci importava di tutte queste piccole cose l'abbiamo fatto accumulò un vocabolario ampio e voluminoso anche disprezzando mezzi e metodi nonostante tutto una delle nostre passioni era studiare imparare indagare l'inizio e la fine di tutto che ha attraversato il nostro cammino una ricerca che ha regalato alle nostre giornate uno splendido e coinvolgente interesse Adamo era per natura e vocazione uno scienziato in tutta onestà posso dire di esserlo anche io ed entrambi siamo stati lieti di usare quel grande nome per noi ognuno aveva l'ambizione di superare l'altro nelle scoperte scientifiche un incentivo che ha stimolato una corsa amichevole e che ci ha impedito di soccombere a costumi non redditizi e piaceri banali la nostra prima memorabile scoperta scientifica è stata la legge secondo la quale acqua e fluidi simili cadono in discesa e non in salita è stato Adamo a scoprirlo passava giorni e giorni a fare i suoi esperimenti in segreto senza dirmi niente perché voleva essere assolutamente sicuro prima di parlare sapevo che il suo colossale intelletto era disturbato da qualcosa di grande importanza perché il suo riposo era inquieto ed era molto agitato nel sonno ma alla fine ne era certo e poi me lo ha detto sembrava così strano e impossibile che stento a crederci e quel mio stupore era il suo trionfo la sua ricompensa portandomi da un fiume all'altro a dozzine continuava a ripetere vedi scorre in discesa in tutti i casi scorre in discesa mai in salita la mia teoria era corretta è dimostrato è stabilito niente può negarlo ed è stato un vero piacere vedere la loro euforia per questa grande scoperta al giorno d'oggi nessun bambino si stupisce di vedere l'acqua a scorrere verso il basso e non verso l'alto ma poi è stato ammirevole e incredibile come gli altri eventi che ho incontrato vale a dire quel fatto così semplice che avevo davanti agli occhi dal giorno in cui sono stata creata ma non l'avevo mai notato ad accettarlo e ad abituarmi ci è voluto un po' di tempo quando non riuscivo a vedere un ruscello senza guardare volontariamente o involontariamente l'acqua che cadeva quasi aspettandomi di vedere la legge di Adamo infranta ma alla fine sono riuscito a convincermi a non tirarmi indietro da quel giorno sarei rimasto sbalordito se avessi visto una cascata che andava in direzione opposta la conoscenza si acquisisce con grande impegno non ce lo mettono in testa per niente quella legge fu il primo grande contributo di Adamo alla scienza per più di due secoli ha portato il suo nome legge di Adamo della precipitazione dei fluidi da allora alcuni complimenti su questo argomento sono stati sufficienti per ammorbidire il suo carattere era molto orgoglioso non c'è bisogno di cercare di nasconderlo ma non era gonfio non è mai stato presuntuoso ma buono amorevole e onesto era solito respingerlo dicendo con un ghigno che non era così male che la legge sarebbe stata scoperta da qualche altro scienziato ma è anche vero che se uno sconosciuto chiedesse udienza e si fosse sconsideratamente dimenticato di menzionarlo non sarebbe mai più stato invitato con il passare dei secoli la scoperta della legge ha scatenato una disputa secondo cui gli organismi scientifici sono durati per un secolo prima di concedere finalmente la paternità a una persona più recente è stato un duro colpo Adam non fu mai più lo stesso ho passato 600 anni con quel dolore nell'anima e ho sempre pensato che gli avesse accorciato la vita essendo il primo uomo che era aveva la priorità sui monarchi e sull'intera razza umana oltre a godere degli onori di un rango così alto ma queste distinzioni non lo compensavano per tale triste indignazione poiché era un vero scienziato non solo il primo mi ha confessato più di una volta ho fatto del mio meglio per confortarlo gli dissi che come primo uomo mi era stata assicurata la fama e non ci sarebbe stato un giorno in cui il nome del presunto scopritore della legge che l'acqua scorre verso il basso sarebbe stato dimenticato ed estinto dalla faccia della terra e ne sono convinta non ho mai smesso di crederci quel giorno arriverà finalmente il prossimo grande trionfo per la scienza è stato il mio contributo consisteva per così dire nello scoprire come il latte entra nella mucca entrambi ci eravamo meravigliati di quel mistero per molto tempo seguivamo le mucche da anni di giorno si capisce anche se senza mai riuscire a sorprenderle bevendo un liquido di quel colore quindi abbiamo deciso per forza l'avrebbero ricevuto di notte così abbiamo stabilito pochi turni per guardarle la notte il risultato è stato lo stesso un puzzle irrisolvibile queste procedure erano tipiche dei principianti ma ora è ovvio che non erano scientifiche è arrivato un momento in cui l'esperienza ci ha insegnato metodi migliori una notte mentre ero assorto nel guardare le stelle mi è venuta in mente una grande idea e la via da seguire era aperta il mio primo impulso fu di svegliare Adamo per dirglielo ma riuscì a controllarmi e a mantenere il segreto non ho dormito per il resto della notte non appena ho visto apparire i primi palli di raggi dell'alba mi sono intrufolata nella foresta e ho scelto un piccolo prato circondato dal sottobosco intrecciando alcuni rami l'ho trasformato in un recinto molto sicuro dove ho messo una mucca che ho munto fino a quando non si è asciugata lasciandola lì prigioniera poiché non c'era niente da bere ho passato l'intera giornata nervosa incapace di parlare in modo coerente da quanto fossi irrequieta ma Adamo era impegnato a inventare una tavola pitagorica e non so se se ne rese conto quando il sole tramontò quando Adamo aveva circa sei anni per nove ed era ubriaco di gioia per la sua impresa ignaro della mia presenza come di tutto il resto sono sgattaiolata fuori per vedere la mia mucca i nervi e la paura di fallire mi fecero tremare la mano così tanto che per alcuni istanti non riuscii a tenerle bene il seno ma finalmente l'ho preso e è uscito il latte otto litri otto litri così dal nulla all'improvviso mi viene in mente la spiegazione il latte non era entrato nella sua bocca ma si era condensato dall'atmosfera entrando nei suoi capelli sono corsa a dirlo ad Adamo la sua felicità era grande quanto la mia e il suo orgoglio inesprimibile dopo un po' mi disse sai non hai fatto solo una scoperta importante e epocale ma due ed era vero una serie di esperimenti ci aveva portato molto tempo fa alla conclusione che l'aria nell'atmosfera fosse costituita da acqua in una sospensione invisibile sapevamo anche che i componenti dell'acqua erano idrogeno e ossigeno in una proporzione di due terzi del primo e un terzo del secondo che poteva essere espresso con il simbolo H2O la mia scoperta ha rivelato il fatto che c'era ancora un altro ingrediente il latte quindi aumentiamo il simbolo rendendolo H2O L diario di Eva note singole un'altra scoperta un giorno un giorno ho notato che William McKinley non stava bene è il primo leone originale ed è stato il mio animale domestico sin dall'inizio l'ho esaminato per vedere cosa c'era che non andava in lui e ho scoperto che un cavolo non masticato gli era rimasto bloccato in gola dato che non riusciva a tirarlo fuori afferrai il manico di scopa e glielo ficcai in gola questo lo sollevò nel corso delle mie indagini gli avevo fatto aprire le fauci per poter guardare la sua bocca e fu allora che vidi qualcosa di curioso nei suoi denti dopo averlo sottoposto ad un attento esame scientifico il risultato è stata una profonda sorpresa il leone non è un animale vegetariano ma carnivoro mangiare carne è così che è stato creato in ogni caso corsi a dirlo ad Adamo che ovviamente mi prendeva in giro dicendo e da dove viene la carne dovevo ammettere che non lo sapevo bene allora stai vedendo chiaramente come me che l'idea è apocrifa non era destinato a mangiare carne altrimenti sarebbe stata fornita non avendo fornito carne ne consegue necessariamente che non ci sono carnivori nel piano generale delle cose è una deduzione logica giusto è ha un difetto no ottimo quindi vuoi aggiungere qualcosa sì c'è qualcosa di meglio della logica veramente che cosa i fatti ho chiamato un leone e gli ho fatto aprire la bocca guarda al lato sinistro della mascella superiore gli dissi questo dente è allungato qui davanti non è un canino quando lo vide rimase stupito e mi rispose impressionato per tutto ciò che è sacro è vero e questi quattro dietro cosa sono? premolari se la ragione non mi inganna e cosa sono quei due dietro? molari se posso distinguere un molare da un participio passato non ho altro da aggiungere le statistiche non mentono questa bestia non è erbivora è così mai cattivo mai geloso sempre leale sempre magnanimo se una cosa gli viene mostrata cede prontamente con graziosa magnanimità ecco perché mi chiedo merito questo ragazzo meraviglioso questa bella creatura questo spirito generoso è successo una settimana fa da allora abbiamo esaminato un animale dopo l'altro e abbiamo scoperto che queste terre sono ricche di carnivori fino ad allora insospettati ancora oggi trovo davvero impressionante vedere una tigre del Bengala rimpilzarsi di fragole e cipolle è molto inappropriato anche se fino ad ora non era sembrato così alcuni giorni dopo oggi essendo in una foresta abbiamo sentito una voce la cerchiamo ma non la troviamo Adamo ha affermato di averla sentita prima ma senza vederla nonostante l'avesse molto vicina come dice lui è come l'aria e non si vede l'ho pregato di dirmi tutto quello che sapeva sulla voce ma sa molto poco è del signore del giardino dice che gli ha chiesto di averlo ben curato e gli ha anche detto di non mangiare il frutto di un albero specifico perché se lo assaggiamo moriremo sicuramente la nostra morte sarà infallibile questo è quanto sai ma volevo vedere l'albero così abbiamo fatto una lunga e piacevole passeggiata fino al luogo appartato e bellissimo in cui si trova quando siamo arrivati ci siamo seduti lo abbiamo guardato a lungo e abbiamo discusso della questione Adamo mi ha detto che è l'albero del bene e del male il bene e il male sì cos'è quello e cos'è cosa è di questo che stai parlando qual è il buono non lo so come vuoi che lo sappia e allora cos'è il male suppongo sia il nome di qualcosa non so però cosa ma Adamo avrai un'idea perché dovrei avere un'idea se non l'ho mai visto come faccio a capire di cosa si tratta come te lo immagini ovviamente non avevo la minima idea ed era irrazionale da parte mia pretendere che lo avesse sarebbe stato impossibile per nessuno di noi scoprire che cosa potesse essere era una parola nuova come l'altra non li avevamo mai sentiti prima e non avevano alcun significato per noi dopo aver riflettuto per un po' ho detto Adamo ricorda quelle altre due parole sconosciute morire e morte cosa vogliono dire non ne ho idea ma cosa pensi che vogliono dire figlia mia non vedi che per me è impossibile fare un'ipotesi accettabile su una questione che non conosco completamente una persona non può pensare senza avere una materia a cui pensare è vero o non è vero sì ma quanto è fastidioso proprio perché non lo so maggiore è il mio desiderio di sapere restammo in silenzio per un po' riflettendo su quel mistero poi ho improvvisamente trovato un modo per risolverlo qualcosa di così semplice che sono rimasto sorpreso di non averci pensato prima saltando su ho detto saremo degli sciocchi dobbiamo assaggiare la frutta in questo modo sapremo cosa significa morire e la questione smetterà di preoccuparci Adam capì che era una buona idea e si era appena alzato per raccogliere una mela quando una creatura curiosa si avvicinò a noi un animale di una specie che non avevo mai visto prima e dimentichiamo il primo numero ovviamente che non aveva un interesse scientifico specifico per rincorrere un altro che lo aveva attraverso valli e colline chilometri dopo chilometri abbiamo inseguito la creatura che strisciava si arrampicava e svolazzava fino a raggiungere una parte remota a ovest della valle dove cresce l'enorme alvero di bagniano tra i cui molteplici tronchi siamo finalmente riusciti a catturarlo che gioia che trionfo era un opterodattilo oh era un insetto d'amore e molto brutto inoltre aveva un carattere demoniaco e uno stridio odioso abbiamo chiamato un paio di tigri e ci hanno riportato a casa con l'animale che ora ho al mio fianco è tardi ormai ma non sopporto di andare a letto perché è un diavoletto affascinante e un contributo davvero eccezionale alla scienza oh scienza in tua presenza tutti gli altri interessi si dissolvono e svaniscono adam adam si è appena svegliato mi chiede di scrivere quelle quattro nuove parole ciò dimostra che le ha dimenticate ma non io per il suo bene sono sempre vigile sono già annotati è lui che sta facendo il dizionario credo ma ho capito che sono io a fare il lavoro comunque non importa perché mi piace fare quello che vuole che io faccia e nel caso del dizionario svolgo il lavoro con un piacere speciale perché così evita l'umiliazione poveretto la sua ortografia non è scientifica scrive catarro con la k e catastrofe con la k anche se entrambi hanno la stessa radice tre giorni dopo lo abbiamo soprannominato Terry e oh è un tesoro ci siamo dedicati totalmente a lui per tre giorni Adam si chiede come sia riuscita la scienza prima che arrivasse e penso che abbia ragione il gatto ha cercato di uccidere Terry perché non lo conosce ma poi si è pentito Terry ha dato a Thomas un colpo da prua a poppa che lo ha lasciato molto malconcio per quanto riguarda la pelle e Thomas si è allontanato con il gesto di qualcuno che voleva sorprendere e si è dovuto fermare per pensare a quello che è successo Terry è semplicemente fantastico non c'è nessun'altra creatura simile Adam lo ha esaminato attentamente e lo ha dichiarato un sopravvissuto tra i più forti penso che Thomas non sia d'accordo anno tre all'inizio di luglio Adam ha scoperto che a uno dei pesci nel lago stavano crescendo le gambe l'esemplare della famiglia delle balene non era una vera e propria balena perché era in uno stato di sviluppo interrotto era un girino lo abbiamo guardato con molto interesse perché se le zampe mutassero e finissero per essere utili la nostra intenzione era di sviluppare nel resto del pesce in modo che potessero uscire a fare una passeggiata e quindi avere più libertà siamo molto preoccupati per quelle povere creature eternamente bagnate scomode e limitate dall'acqua mentre il resto è libero di giocare tra i fiori e divertirsi le zampe sono state affinate non sorprende e la balena si è trasformata in una rana avvicinandosi alla riva iniziò a saltare e cantare allegramente cosa che in seguito avrebbe fatto soprattutto nel pomeriggio per mostrare il suo immenso apprezzamento altri hanno impiegato poco tempo per seguirli e presto abbiamo avuto una musica abbondante la sera che si è rivelata un grande miglioramento rispetto al silenzio che c'era prima abbiamo deciso di prendere vari tipi di pesce fuori dall'acqua e di rilasciarli attraverso le praterie ma in tutti i casi sono stati una delusione perché non hanno fatto crescere le gambe era curioso non siamo riusciti a capirlo dopo una settimana sono tornati tutti in acqua e lì sembravano più soddisfatti di quanto fossero stati a terra prendiamo questo come prova che i pesci come regola generale non amano la terra e che nessuno di loro ne è interessato affatto ad eccezione delle balene circa 400 chilometri a monte della valle c'erano diverse grandi balene in un lago abbastanza smosso e lì Adamo partì con l'idea di svilupparli e aumentare la sua capacità di divertirsi quando aveva una settimana nacque il piccolo caino è stata una vera sorpresa per me perché non potevo nemmeno immaginare che sarebbe successo qualcosa del genere ma Adamo lo dice sempre è l'imprevisto che accade all'inizio non sapevo davvero cosa fosse ho pensato che sarebbe stato un animale ma quando l'ho esaminato ho visto che non l'aveva perché non aveva quasi denti né pelle ed era una scimmia indifesa alcune delle sue caratteristiche erano umane ma non aveva abbastanza per giustificare la sua classificazione scientifica all'interno di quella specie pertanto è iniziato come un lusus nature un capriccio della natura e lì è rimasto per il momento fino a vedere il suo ulteriore sviluppo ma dal primo momento la creatura ha suscitato in me un interesse che aumentava di giorno in giorno poi ha preso una piega più calda e si è trasformata in affetto amore persino idolatria fino a quando mi sono donata con tutta l'anima alla creatura invasa da una gratitudine felice e appassionata la vita era diventata una delizia un ravimento un'estasi e non vedevo l'ora che giorno dopo giorno ora dopo ora minuto dopo minuto Adamo tornasse per condividere con me questa felicità quasi insopportabile anno 4-5 finalmente è tornato anche se dice che la creatura non è un bambino ha buone intenzioni ed è stato gentile e affettuoso ma come prima è scientifico che l'uomo lo porta nella sua natura non accetti nulla che non sia scientificamente provato le paure che mi ha dato nei successivi dodici mesi con i suoi esperimenti da studente sono quasi impossibili da descrivere per determinare che tipo di uccello rettile o quadrupede fosse il ragazzo e per scoprire a cosa servisse lo sottopose a tutti i fastidi e gli inconvenienti che gli venivano in mente e dovevo seguirlo ovunque andasse giorno e notte esausto e disperato per alleviare il bambino da quella sofferenza e aiutarlo ad affrontarlo nel miglior modo possibile per fortuna Adamo credeva che l'avessi trovato nella foresta il che mi ha dato un certo vantaggio perché l'idea lo spingeva a partire di tanto in tanto alla ricerca di un altro simile lasciando me e il bambino a riposare sereni nessuno immagina il sollievo di vederlo abbandonare i suoi raccapriccianti esperimenti afferrare le sue trappole e le sue esche e dirigersi verso i boschi appena è scomparso ho abbracciato forte mio figlio l'ho coperto di baci e ho pianto di gratitudine il povero ragazzo sembrò rendersi conto che ci era successo qualcosa di buono e iniziò a scalciare e a urlare mostrando le gengive sdentate e sorridendo con quel sorriso felice dell'infanzia che sembra arrivare al cervello o qualcosa che abbiamo lì dentro anno 10 il successivo ad arrivare fu il nostro piccolo Abele saremmo stati un anno e mezzo o due quando Caino sarebbe nato e circa tre o tre e mezzo quando Abele si sarebbe unito a noi a questo punto Adamo aveva già iniziato a capire la questione ci ha infastidito sempre meno con i suoi esperimenti fino a quando circa un anno dopo la nascita di Gladys e Edwina che ora hanno rispettivamente 5 e 6 anni alla fine si sono fermati del tutto dopo averli classificati scientificamente tutti ha provato un grande affetto per i bambini ed allora fino ad oggi la felicità dell'Eden è perfetta ora abbiamo nuove creature metà delle quali sono maschi e metà femmine Caino e Abele stanno iniziando a imparare Caino sa già come sommare come me e anche come moltiplicare e sottrarre un po' Abele non ha l'agilità mentale di suo fratello ma sembra compensare la mancanza di velocità con la perseveranza Abele impiega tre ore per imparare la stessa cosa di Caino in una ma Caino trascorre le restanti due ore a giocare quindi Abele fa molta strada ma come dice Adamo si puntuale in ogni caso Adamo ha concluso che la perseveranza è una virtù e l'ha classificata in quella categoria nel dizionario anche l'ortografia è un dono ne sono sicuro perché Caino con tutta la sua intelligenza è capace di imparare l'ortografia in questo è lo stesso di suo padre che essendo il più intelligente di tutti ha un'ortografia disastrosa sono brava con lui proprio come Abele tutto ciò non prova nulla perché non possiamo dedurre un principio con così pochi esempi ma sembra indicare che essere facili nell'ortografia è un dono naturale è un segno di inferiorità intellettuale per lo stesso ragionamento la sua assenza è segno di grande capacità mentale a volte quando Adamo prende una parola lunga come ragionamento per cercare di metterla per iscritto lo vedi asciugarsi il sudore dalla fronte mentre contempla il casino lo adoro per avere una grandezza intellettuale così tremenda e sublime è in grado di scrivere la tubercolosi in modi molto diversi ma sembra indicare che la facilità di ortografia sia un dono naturale e un segno di inferiorità intellettuale Caino e Abele sono ragazzi fantastici che si prendono cura dei loro fratellini e sorelline i quattro più grandi del branco camminano dove vogliono e a volte non li sentiamo per due o tre giorni una volta hanno perso Gladys e sono tornati senza di lei non riuscivano a ricordare esattamente dove o quando l'avevano persa il posto era molto lontano dicevano ma non sapevano fino a che punto perché non conoscevano bene quella parte della foresta sapevano solo come dirci di aver visto molti cespugli di una pianta che chiamiamo bella donna senza sapere veramente perché non significa nulla ma è una delle parole che abbiamo sentito dire dalla voce per molto tempo e ci piace usare parole nuove ogni volta che ci vengono in mente in modo che suonino e siano più gestibili i bambini amano i frutti di questi cespugli e hanno fatto una lunga passeggiata mentre li mangiavano dopodiché volevano andare in un'altra parte della foresta ed è stato quando hanno sentito la mancanza della loro sorella che non ha risposto gridando il suo nome Gladys non è tornata il giorno successivo né l'altro né l'altro passarono altri tre giorni e ancora non si presentò è stato molto strano dato che non era mai successo niente del genere eravamo curiosi Adamo era dell'opinione che se fosse andato un altro giorno senza presentarsi o due al più tardi avremmo dovuto mandare Caino e Abele a cercarla ed è questo che abbiamo fatto hanno passato tre giorni fuori ma l'hanno trovata Gladys aveva avuto diverse avventure la prima notte al tramonto è caduta in un fiume e la corrente l'ha portata per ore lasciandola distesa su un banco di sabbia fini per vivere con una famiglia di canguri che la accolsero con ospitalità perché erano molto socievoli la madre canguro era amorevole e materna di tanto in tanto i bambini venivano tirati fuori dalla borsa e attraversavano le montagne e le valli alla ricerca dei frutti e delle noci migliori tornando sempre a casa con la borsa piena inoltre era rara la notte in cui non ricevevano visitatori orsi conigli poiane galline volpi iene puzzole tra le altre creature e tutti si divertivano e giocavano così allegramente gli animali sembravano compatire la ragazza per non avere i peli sul corpo e la notte le proteggevano la pelle avvolgendola di foglie e muschio ed è così che i bambini l'hanno trovata coperta dalla testa ai piedi sembra che i primi giorni fosse stupida fare un dizionario annotazione dell'autobiografia di Eva anno 920 della nostra terra la verità è che in quei tempi di semplicità e ignoranza il fatto è che a noi persone umili sconosciute e incoerenti non ci è mai passato per la mente stavamo curando cullando e accogliendo l'evento più straordinario e portentoso che stava per accadere nell'universo nei prossimi mille anni la creazione della razza umana la verità è che all'inizio il mondo era un luogo solitario ma la solitudine ha richiesto poco tempo per cambiare a 30 anni avevamo 30 figli che a loro volta ne avevano 300 due decenni dopo la popolazione era di 6.000 alla fine del secondo secolo c'erano già diversi milioni poiché siamo una razza longeva pochi sono morti più della metà dei miei figli è ancora viva non ho smesso di rimanere incinta fino alla mezza età in generale quelli dei miei figli che sono sopravvissuti ai pericoli dell'infanzia sono ancora vivi cosa che è accaduta anche ad altre famiglie la nostra razza ora consiste di miliardi di vite il SEM Journal una domenica del 920 avanti Cristo come sempre nessuno rispetta le feste di mantenimento voglio dire nessuno tranne la nostra famiglia ovunque ci sono folle di persone cattive in piena balordia bere litigare ballare giocare d'azzardo ridere gridare e cantare uomini donne bambini giovani fanno tutti lo stesso e si dedicano anche a praticare altre infamie infamie di quelle che non dovrebbero essere messe per iscritto che rumore trombano coi loro corni battono pentole e padelle martellano strumenti barbari e suonano tamburi più che sufficienti per far scoppiare i timpani e tutto questo di domenica immagina mio padre dice che ai vecchi tempi queste cose non succedevano quando era piccolo la domenica veniva rispettata e non c'era male né baldoria né rumore solo pace silenzio e tranquillità e messa più volte al giorno e al tramonto quasi 600 anni fa confronta quei tempi con questi è difficile credere che tutto sia cambiato così rapidamente che anche chi non è vecchio ricorda quanto soprascritto oggi queste creature sinistre si affollano in una folla ancora più grande del solito per vedere l'arca a girarla intorno e provocarla fanno domande e quando gli viene detto che è una barca ridono e chiedono dov'è l'acqua qui in mezzo alla pianura quando diciamo loro che il signore ci invierà abbastanza acqua dal cielo per inondare il mondo intero si fanno beffe ancora una volta e dicono dillo ai marinai ma Tusalemme è tornato di nuovo oggi non essendo la persona più anziana del mondo è il vecchio più illustre che esista ed è rispettato da quella particolare supremazia quando lo vedono apparire le grida si interrompono c'è silenzio gli uomini si tolgono i cappelli e tutti lo salutano con servile riverenza sussurrandosi guardalo ecco ha quasi mille anni ha incontrato Adamo dicono è evidente che il vecchio vanitoso trova tutto ciò molto piacevole ma avanza a passi brevi e con il naso alzato assumendo l'aria distratta di chi medita su un argomento importante quasi a voler dire che non sa cosa gli sta succedendo so da certi dettagli che Matusalemme ha scoppi non solo di gelosia ma anche di invidia forse non dovrei menzionarlo perché siamo suoceri perché mia moglie è sua nipote non lo direi in pubblico mi sembra innocuo raccontarlo nell'intimità del mio diario che è quasi come dirlo a me stesso ma Matusalemme è geloso dell'arca senza dubbio lo fa arrabbiare che non sia stato affidato a lui invece che a mio padre l'arca ha fatto una tale impressione in tutti i paesi del mondo che mio padre è passato dall'oscurità alla fama mondiale il che rende Matusalemme geloso all'inizio la gente diceva Noè ma chi è Noè tuttavia ora percorrono molte miglia per chiedere il suo autografo ovviamente non deve passare intere notti a firmare autografi come facciamo noi e intendo gli otto fratelli perché il padre non può farli tutti nemmeno una decima parte con una mano così vecchia e rigida Matusalemme ha un carattere molto sgradevole mi sembra che sia felice solo quando riesce a infastidire gli altri chiama sempre tutti noi i miei fratelli ed io i bambini lo fa perché sa che ci offende un giorno Yafet osò ricordargli timidamente che eravamo tutti uomini e donne le loro risate potevano essere ascoltate da un chilometro intorno chiudendo gli occhi in una specie di beffarda estasi increspò quelle labbra aride che mostravano le quattro zanne giallastre delle sue gengive sdentate e fece una risata sinistra e disse tra le tosse asmatiche le nostre donne hanno quasi ottant'anni e il più vecchio di noi sono io e ho compiuto cento anni in primavera ottanta il cielo mi aiuti cento Dio mi aiuti è già sposato mio Dio mio Dio alcuni bambini in culla alcune bambole di pezza e tutti sposati nella mia giovinezza nessuno avrebbe permesso ai figli di sposarsi che atrocità sebbene gli affetti volesse ricordargli che più di un patriarca si era sposato nella sua prima giovinezza non voleva ascoltarlo fa sempre lo stesso se gli viene fornito un argomento che non può confutare alza la voce e si difende rumorosamente quindi tutto quello che può fare è chiudere la bocca e dimenticarsene non puoi discutere con lui perché sarebbe considerato uno scandalo e un'irriverenza sarebbe inutile se noi i fratelli provassimo a contraddirlo non noi non nessuno tranne il dottore il medico non ha né paura né eccessivamente rispetto di lui dice che un uomo non è altro che un uomo e che avere mille anni non lo rende al di sopra degli altri lettere dall'ufficio cielo dell'angelo di archiviazione dipartimento per le petizioni 20 gennaio Abner Schofield commerciante di carbone di Buffalo New York Gentile Signore con la presente ho l'onore di informarti come mi è stato affidato che il tuo recente atto di benevolenza e altruismo è stato registrato in una pagina del libro intitolata Heroic Works of Humanity posso aggiungere che questa distinzione non è semplicemente straordinaria ma unica per quanto riguarda le vostre preghiere per la settimana che si conclude il 19 ho l'onore di informarvi di quanto segue 1 che il clima solleva la pietra carbone di 15 centesimi la tonnellata concesso 2 che l'afflusso di lavoratori abbassa i salari del 10% concesso 3 prezzi più bassi del carbone competitivo concesso 4 si faccia visita all'uomo o alla famiglia del suddetto che ha aperto un magazzino di carbone al dettaglio a Rochester concesso come dettagliato di seguito difterite due casi uno fatale scarlattina un caso con sequele di sordità e imbecillità nota questa preghiera avrebbe dovuto essere rivolta ai capi di questo funzionario presso la sede di New York 5 che deportino all'inferno le folle disperate che ogni giorno arrivano per chiedere lavoro o favori di qualsiasi genere questa richiesta è allo studio prima di giungere alla soluzione al corrispondente compromesso in quanto risulta contravvenente un'altra petizione della stessa data che verrà citata in seguito 6 che una qualche forma di morte violenta sia applicata a un vicino che ha lanciato un mattone contro il gatto di famiglia mentre il poveretto ha tenuto una serenata notturna in lista d'attesa in attesa di risoluzione e impegno per contraddizione con una preghiera della stessa data che verrà citata in seguito 7 che la causa delle missioni sia annientata anche in lista d'attesa come il precedente 8 aumentare i benefici da 22.230 a novembre a 45.000 entro gennaio e perpetuare un aumento mensile proporzionale soddisfacente in seguito richiesta accolta sebbene commenti aggiuntivi siano accettati con riserva 9 un ciclone distrugge le strutture e acceca la miniera della Northern Pennsylvania Company nota non è prevista la fornitura di cicloni nella stagione invernale la consegna affidabile di Fire Damp può essere fornita su richiesta il suddetto elenco viene archiviato con particolare cura perché è importante i restanti 298 ricorsi classificati sotto la voce provvedimenti speciali inventario A per la settimana terminante sono accolti in blocco ad eccezione di 3 dei 32 casi che richiedono morte immediata trasferiti a malattia incurabile si completa così la lista settimanale delle petizioni inserite in quest'ufficio sotto il soprannome tecnico Secret Pleas of the Heart che per ovvie ragioni ricevono sempre la nostra primissima attenzione il resto del foglio di questa settimana è classificato sotto il titolo di ciò che chiamiamo preghiere pubbliche una categoria in cui combiniamo le richieste fatte alle riunioni della chiesa alle scuole domenicali alle riunioni scolastiche alle liturgie familiari eccetera queste preghiere hanno un valore secondo la condizione del cristiano che le fa secondo le norme di quest'ufficio i cristiani sono divisi in due grandi classi vale a dire uno cristiani praticanti e due cristiani professionisti questi a loro volta sono suddivisi e classificati in base a taglia specie e famiglia infine il prestigio è valutato in carati dove uno è il minimo e mille è il massimo per quanto riguarda il tuo estratto conto per il periodo terminato il 31 dicembre 1847 sei stato classificato come segue classificazione generale praticante cristiano taglia un quarto del massimo specie umano spirituale famiglia A of the chosen divisione 116 prestigio qualità premium da 322 carati per quanto riguarda l'estratto conto del periodo appena concluso cioè a 40 anni di distanza sei stato classificato come segue classifica generale cristiano professionista taglia 6 centesimi del massimo specie uomo animale famiglia W of the chosen divisione 1547 prestigio premium 3 carati ho l'onore di attirare la vostra attenzione sul fatto che state chiaramente peggiorando quanto alla relazione sulle sue preghiere pubbliche devo aggiungere che per incoraggiare i cristiani del suo rango o simili è consuetudine in questo ufficio concedere loro molte cose che non sarebbero concesse a un cristiano di rango superiore anche perché non lo erano richiesto due punti preghiera per temperare piamente il tempo tenendo conto dei bisogni dei poveri e dei bisognosi negato questa è una preghiera fatta in una riunione della chiesa è in contraddizione con il primo punto di questo rapporto che è una supplica segreta del cuore secondo una rigorosa politica di questo ufficio alcuni tipi di preghiere pubbliche di cristiani professionisti non possono avere la precedenza sui segreti del cuore preghiera per una vita migliore e cibo più abbondante per il figlio di mani consumate dal lavoro il cui sforzo paziente ed estenuante rende le case abitabili e piacevoli i sentieri dei più fortunati affinché sotto la nostra attenta e protettiva vigilanza possa essere liberato dalle cattive azioni e ingiustizie alle quali l'avidità lo porterebbe a ricevere sempre la massima tenerezza dai nostri cuori riconoscenti poi preghiera dell'incontro ecclesiastico negato in contraddizione con la supplica segreta del cuore numero 2 preghiera per pregare affinché coloro che ostacolano in qualsiasi modo le nostre preferenze siano generosamente benedetti sia loro che le nostre famiglie poiché mettiamo il nostro cuore a testimonianza che la loro prosperità materiale ci eleva spiritualmente dandoci la gioia più perfetta poi preghiera dell'incontro ecclesiastico negato in contraddizione con le suppliche segrete del cuore numero 3 e numero 4 che nessuno sia portato via al dolore della perdizione delle nostre parole o azioni liturgia familiare ricevuto 15 minuti prima dell'appello segreto del cuore numero 5 con il quale si contraddice chiaramente e si suggerisce di ritirare l'una o l'altra di queste preghiere o di modificarle entrambe mostra compassione a tutti coloro che ci offendono sia in relazione alla nostra persona che a qualsiasi nostra proprietà questo include l'uomo che ha lanciato il mattone al gatto liturgia familiare ricevuto minuti prima della supplica segreta del cuore numero 6 si suggerisce di modificare per evitare contraddizioni possa la nobile causa delle missioni l'opera più preziosa affidata all'uomo crescere e prosperare senza ostacoli o limiti in tutte le terre pagane che ci rimproverano la loro oscurità spirituale preghiera non richiesta e casting rondon in una riunione del consiglio d'america ricevuto quasi mezza giornata prima della supplica segreta del cuore numero 7 questo ufficio non è in contatto con le missioni e non ha rapporti con il consiglio d'america vorremmo poter esaudire una di queste preghiere ma non possiamo concederle entrambe si suggerisce di ritirare quello del consiglio d'america infine questo ufficio per la ventesima volta vuole richiamare con urgenza l'attenzione sul suo commento legato al numero 8 non giunge a delle 464 specifiche contenute nelle vostre preghiere pubbliche di questa settimana e non menzionate in precedenza in questo rapporto ne concediamo due e neghiamo il resto vale a dire concesso numero 1 che le nuvole possono continuare il loro lavoro numero 2 è il sole con il suo in ogni caso coincidendo con l'intenzione divina sarai felice di sapere di non aver interferito con essa dei 462 dettagli non accettati 61 sono stati richiesti alla messa domenicale a questo punto devo ricordarvi di nuovo che non concediamo le preghiere della messa domenicale a cristiani professionisti inclusi nella classificazione tecnicamente nota in questo ufficio come laurea John Wanamaker li archiviamo solo come parole e contano a tuo favore in base all'importo accumulato in un certo periodo di tempo tre sono obbligatori 0 0 0 per ogni quarto di minuto o non c'è punteggio 4200 con la possibilità di arrivare a 5000 è un punteggio molto comune nella messa domenicale perché sono esperti del settore e segna come due inni e un mazzo di fiori portati da giovani donne nella cella di un assassino la mattina dell'esecuzione i restanti 401 dettagli vengono utilizzati solo per creare il vento una volta raggruppati li usiamo come venti contrari per ritardare le barche delle persone fastidiose ma è necessario raccoglierne tanti per dimostrare che è difficile per noi raggiungere una quantità adatta all'uso vorrei aggiungere un commento con la mia grafia a questo rapporto quando certe persone compiono una buona azione di una categoria considerevole le diamo mille volte più importanza che se l'avesse fatto un uomo migliore a causa dello sforzo che comporta sei molto lontano dal tuo punteggio più alto in questo momento poiché alcuni dei sacrifici che hai fatto superano di gran lunga quello che ti saresti potuto aspettare anni fa quando non superavi i 100 dollari e inviavi 2 dollari alla tua povera cugina la vedova che ti aveva chiesto aiuto c'erano molti in paradiso che non potevano crederci la maggior parte pensava che fosse denaro falso ha aumentato molti numeri interi come persona quando queste ipotesi si sono dimostrate infondate uno o due anni dopo quando mandò alla povera ragazza 4 dollari in risposta a un appello tutti ci credettero e nient'altro fu discusso qui per quei giorni uno o due anni dopo quando mandasti alla povera ragazza 4 dollari in risposta a un altro appello tutti ci credettero e nient'altro fu discusso qui per quei giorni due anni dopo dopo ripetute suppliche gli mandasti 6 dollari quando morì il figlio più giovane della vedova un atto che perfezionò la tua buona reputazione in paradiso tutti dicevano hai sentito di Abner? qui sei affettuosamente conosciuto come Abner le sue donazioni crescenti ogni due o tre anni hanno reso il suo nome passaparola e amato con tutto il cuore il cielo intero ti guarda la domenica quando vai in chiesa con la tua macchina elegante e quando ritiri la mano dal piattino dell'elemosina si alza una voce che raggiunge le mura incarnate del lontano regno dei morti un'altra moneta di Abner ma il culmine è stato pochi giorni fa quando la vedova ha scritto dicendo che avrebbe potuto ottenere un posto da insegnante in una città lontana se solo avesse avuto 50 dollari per fare il lungo viaggio con i suoi due figli rimasti senza esitazione hai contato i profitti che avevi prelevato dalle tue tre miniere di carbone nell'ultimo mese cioè 22.230 dollari hai aggiunto i profitti fissi per questo mese cioè più di 45.000 dollari molto vicino a 50.000 e poi hai preso la penna e il libretto degli assegni e gli hai mandato non meno di 15 dollari oh Dio ti benedica e ti protegga per molti anni cuore generoso nel regno dei cieli non c'era occhio secco e in piena seduta di strette di mano a bracci e lodi il decreto è venuto dalla montagna luminosa per concedere a questo evento i più alti onori soprattutto i sacrifici storici di uomini e angeli e di registrarlo in una pagina a parte perché lo sforzo che ti aveva richiesto è stato più duro e più amaro di quello di 10.000 martiri che hanno dato la loro vita sul rogo e tutti dissero qual è la vita di un'anima nobile o di 10.000 anime nobili rispetto ai 15 dollari del pugno afferrato dall'uomo bianco più avaro che abbia mai camminato sulla faccia della terra ed era vero e Abramo piangendo ne svuotò il contenuto del petto e lo etichettò con eloquente iscrizione e piangendo disse quando verrà sarà accolto da una processione di fiaccole poi l'intero cielo rimbombò e tutti furono contenti che tu andassi lì e all'inferno anche loro erano felici firmato per procura e timbrato con il sigillo del cielo l'angelo dell'archivio che tu andassi che tu andassi Grazie a tutti